Buonasera, bentornati di martedì. Allora la puntata è importante perché abbiamo un nuovo Presidente della Repubblica. Ne parleremo, ascolteremo la sua nascita, ascolteremo il suo discorso, parleremo di quello che ha detto oggi, ci interrogheremo sui nuovi equilibri politici dopo l'elezione del Capo dello Stato, ma non dimenticheremo il nostro piatto forte, cioè il lavoro, il fisco e le pensioni. Lo faremo innanzitutto con il Ministro dei Rapporti nel Parlamento, Maria Elena Boschi. Buonasera. 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 Prego, si accoglie. Ma poi avremo anche altri ospiti, avremo Giuliano Ferrara, Maurizio Landini, Maurizio Belpietro, Luigi Zanda, il capogruppo al Senato del PD, Stefano Feltri, del Fatto Quotidiano, Anna Scani, Maurizio Lupi, il Ministro, NCD, che insomma sono abbastanza seccati ultimamente, Sergio Cofferati e poi avremo finalmente Carlo Cottarelli, l'ex commissario della Spending Review, viene a dirci che fine hanno fatto i suoi libri, non li trova nessuno. Se uno chiama il Ministero dell'Economia gli dicono guardate Cottarelli lavorava alla Presidenza del Consiglio, chiami la Presidenza del Consiglio e ti dicono no, guardate lavorava all'Economia, ci dirà lui che fine hanno fatto i suoi libri. E poi Eugenio Scalfari, ma ancora altri ospiti. Vi presento subito Nando Pagnoncelli, che ha fatto un sondaggio subito sul Presidente della Repubblica. Buonasera Nando. Buonasera, buonasera a voi tutti. Una serata importante e interessante, ma noi iniziamo sempre dai bambini. Abracadabra baby, Emanuela Giovannini. Ok, vai, microfoniamoli. Uh, che piccato, mi giuste. La pista 17-18 alla 19-20. Come ti chiami? Slavio. Io Carlotta. Io Maria Lucia. La casa è lui, l'Andrea. Quanti anni avete? Nove. Io sei. Sei brava a giocare a bowling? Sì, così così perché le palle pesano. Lei ancora no perché pesano le palle. Come si gioca a bowling? Devi fare due passi, insomma come faccio io. Poi carichi la palla dietro e poi la accompagni a terra e spingi forte. In amore come va? Zero. Come zero? Non ho trovato persone giuste. Siete fidanzati? No. Per ora non è il nostro primo obiettivo. Abbiamo le ragazze amiche. Amiche? Sì. E io ho pieno rotto. Mi trattava male. La fidanzata ce l'hai? Sì. Com'è? Così. Quanti anni ha? Giulio, dirò quanti anni hai? Un anno e mezzo. Hai una fidanzata di un anno e mezzo? Sì. Ti piacerebbe essere il presidente della repubblica? Sarebbe molto comodo. Non mi piace il ruolo di politico. Che cosa sapete della politica? No. Politica. Poi diventi brutto se sei politico. Matteo Renzi è brutto. Berlusconi. Berlusconi è brutto. Renzi. Che a me piace di aspetto fisico. Ti fidanzeresti con Renzi? Io no. È bello tutto ma non mi convince molto. Come amico. Com'è la giornata tipo del presidente della repubblica? Molto impegnative. In giro per l'Italia con la limousine. Sarà secondo me sempre nell'ufficio. Se c'è la pausa pranzo a mangiare fuori. Con qualche amico a distanza. Ma dove vive? Dove sei andata te? In un castello abbastanza. Con colonne d'oro? No. A metri di amante? A metri di ammiglia nel nome. Armadi buoni. La stanza giochi. La stanza salotto. Ci sono molti computer. Stampanti. Per io hanno tutte cose professionali. Inquilinale. Qual è secondo voi la prima cosa che dovrebbe fare il nuovo presidente della repubblica? Allora, secondo me... Abbassare le tasse. Mettere a posto un po' quello che ci sta incasinato. Togliere i ladri. Dare metà dei suoi soldi ai poveri. Tu lo faresti? No. Pochi secondi di pubblicità e arriva Maurizio Crozza. E iniziamo col... A pochi secondi di pubblicità e arriva Maurizio Crozza. A pochi secondi di pubblicità e arriva Maurizio Crozza. I can go, I owe my soul to the company store. Ti sentiamo dopo, si tu dici le tue stronzate a Berlusconi, io le dico a Floris e poi ti richiamo, dai, butta giù prima tu, Berlini, prima tu, no, facciamo un patto, al mio tre chiudiamo, ok? Uno, due, ti ho fregato, stronzio. Giova, questi di Forza Italia, ti cascano sempre. Giova, vorrei dire una cosa, di servizio a Maria Elena, scusa Maria Elena, la statua, se proprio me la vogliono fare, fammela fare tutta in bronzo, non solo la faccia. Maria Elena, Maria Elena, chi sa? Ti è piaciuto di più, quando ho fottuto Enrico Letta da solo o quando adesso ho fottuto tutti quanti? Maria Elena, lo dici tu, lo dico io, ma quanto siamo fighi io e te, Maria Elena, la grande tessitrice del Quirinale. Te lo saresti mai aspettato tu nella tua cameretta quando ascoltavi Take That? Maria Elena, mi raccomando, non dare confidenza a Floris, trattalo come se fossero zivati, ignoralo. Signori miei, io l'avevo detto prima delle votazioni, il Presidente della Repubblica passerà alla quarta. Presidente è passata alla quarta e la Repubblica è tornata alla prima. Perfetto. Ma non è solo merito mio. Sembra il discorso di Mattarella, c'è un applauso ogni due parole. Ma non è tutto merito mio. Angelino, ricordatevi, dietro ogni grande uomo c'è sempre un piccolo Alfano. Angelino, lo so che ci stai guardando, fai ancora i vetri, i bagni e puoi guardare. Perché avere un filipino in casa quando puoi avere un angelino a servizio? E ora fatemi dire l'ultima cosa, cari italiani, se sono riuscito a fottere uno come Berlusconi, a voi, che siete gente semplice, avete idea di come posso ridurvi? State sereni. Giova. Ciao Giova. Abbiamo il Presidente, abemus presidentem, abemus, abemus presidentes. Perché mi lancio nel latino, che io in latino avevo quattro? Abbiamo il Presidente, Giova. Mattarella, lasciamelo dire, è la scelta migliore. Anche perché l'alternativa era Vittorio Feltri. Cioè, ma perché contro Feltri diciamo che avrebbe vinto anche al Baghdadi. Sto scherzando, naturalmente Mattarella è l'uomo giusto al momento giusto. Ecco, magari il momento era più giusto 30 anni fa. Io mi chiedo, Giova, ma perché la letteratura si è sempre inventata figure immaginarie? Gente immortale, sai, Highlander, Dracula, la mummia. E non ha mai pensato a una saga sui democristiani. Che tra l'altro i democristiani sono come i rotoloni regina, non finiscono mai, no? Cioè, Renzi viene dall'ADC, Mattarella viene dall'ADC. L'ultima volta che in questo paese abbiamo avuto contemporaneamente un Presidente e un Premier democristiani era il 1992, con Siga Andreotti. Abbiamo fatto un salto in avanti di 23 anni fa. E' come se domani l'Apple presentasse il televideo. Non so, è come se quest'anno Albano e Romina aprissero il Festival di Sanremo. Ah, lo aprono. Scusate. Ma noi siamo fatti così. Giova. A noi ci piace così. Vincitori e vintage. Ma quanti democristiani ci sono ancora in circolazione? Tanti, tanti. E Mattarella è straordinario perché li reincarna tutti. Ha il cappotto di De Gasperi, gli occhiali di Forlani e l'andatura di Andreotti. Con Zaccagnini, Mattarella c'era, c'era con Demita, con Aldo Moro c'era. Lui c'era sempre. Lui era già con lo scudo crociato. Quando lo scudo ce l'avevano i crociati quelli veri. Ma tu non hai idea, Giova? Il personaggio che è Mattarella. Personaggio straordinario, integro, rigoroso, morigerato. Sobrio. E così sobrio che in confronto napolitano sembra Fabri Fibra. Ha una panda grigia. Un vestito grigio. Fa le foto con le suore grigie sulla panda grigia vestito di grigio. 50 sfumatore di grigio potrebbe essere la sua biografia. Non si tromba mai, però c'è tanto grigio. Comunque, a parte gli scherzi... Comunque, a parte gli scherzi, Mattarella oggi ha fatto un discorso bellissimo. Quando ha detto, sarò un arbitro imparziale, tutto il Parlamento in piedi. Poi ha detto, lotta la corruzione e si sono seduti tutti in paranoia. Bellissimo. Però era emozionato anche lui. E a un certo punto ha perso anche un foglio. E nonostante questo è andato avanti lo stesso. Ecco, io ora ho uno scoop, perché... Coup de théâtre, de théâtre. Ma perché mi lancio nel francese, che in francese avevo quattro? Colpo di teatro? Ho trovato quel foglio. Ora, io Mattarella provo a farlo, ma non lo so fare. Fino a questa mattina io non l'avevo mai sentito parlare. Cioè, per la verità, nessuno l'aveva mai sentito parlare. Addirittura i figli stamattina si sono stupiti. Ah, ma papà parli! Ascuta, no! Comunque, avendo qui per caso la parrucca... E' quella di Rafa. Un paio di occhiali. Il foglio? Io provo... Provo a fare Mattarella. Non è facile, eh. Mattarella... Non ha labbra. Ha la testa incassata. Un po' in avanti. Ora, è difficile per me. Che ha la voce così e con questo foglio che colgo l'occasione per raccontare il tessuto sociale del nostro paese. E bravo! E un po' anche di me. Chi sono io? Proviamo a conoscermi meglio. Sergio Mattarella. Un uomo che nella vita ha sorriso solo una volta. Nel 1945. Quando è finita la guerra. E poi basta, lo giuro. Il mio romanzo preferito è la gazzetta ufficiale. Ti prego, non ditemi come va a finire. Sono felice di essere qui. Mi spiace solo questa sera di essere a colori. Io, che sono un uomo in grigio. Io, che sulla mia scrivania ho grigi pure gli evidenziatori. Io, sono un uomo che ha vissuto tutta la vita in trentaseiesima fila. Un uomo mai notato. E che questa sera ha la sua rivincita. Come chi è che parla? Sono io. Quello davanti allo sfondo. Niente. Non mi si nota mai. Pensate che quando ero piccolo a scuola, ero così poco notato, che i miei compagni mi appendevano i cappotti addosso. All'appello, ero segnato la voce a altri. Io, un uomo mai notato. Pensate che nella foto della mia patente, io sono quello dietro. sono così poco notato che alla bufette di Montecitorio ho ordinato un caffè nell'83 e lo sto ancora aspettando. Ma ora, lasciatemi rivolgere un pensiero. Un pensiero. scusate, avevo riso solo nel 45. Ma ora, lasciatemi rivolgere solo un pensiero. ai tanti volti che portano nel cuore il mio primo pensiero, ma al volto di colui che col mio assediamento può finalmente abbandonare il suo caroso compito e concedersi un meritato riposo, Enrico Mentana. e consentitemi e consentitemi anche di condividere con tutti voi una buona notizia per il nostro paese. Anche la Sardone è stata liberata, sta bene e sta tornando a casa. Viva l'Italia, viva la Repubblica, ma anche il Corriere, se no si offendono. Come sono andato? Mi ti ha notato? No? Meglio. Maurizio Crozza! Maurizio Crozza! Per la nostra copertina! Allora, Ministro, iniziamo da lei. Che sensazione dà partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica? Beh, intanto era la seconda volta e pochi nell'arco della stessa legislatura si trovano ad affrontare per due volte l'elezione presente della Repubblica e purtroppo il ricordo del 2013 chiaramente era abbastanza pesante da superare perché nel 2013 ci fu appunto un impasso che portò a chiedere a Napolitano una rielezione anche con un sacrificio personale. Però lei ha poco più di 30 anni, no? È vero, ha partecipato già all'elezione di Napolitano. Questa volta era in un nucleo promotore, è stata un elemento importante di questa elezione. Cosa si prova come italiani a eleggere il Presidente della Repubblica? Sicuramente c'è in qualche modo l'orgoglio ma anche la responsabilità in quel momento di rappresentare tutti gli italiani in Parlamento nell'elezione di chi per sette anni ci rappresenterà tutti il Presidente Mattarella che dovrà essere appunto il simbolo dell'unità del nostro Paese ma anche il garante della nostra Costituzione delle istituzioni repubblicane quindi c'è anche una certa emozione quando si scrive il nome dentro l'urna. Lei ormai è dentro alla politica molto, è un ministro importante un esponente importante di un partito fondamentale si avverte il senso del tempo della storia della Repubblica quando si fanno queste cose oppure si è presi dal trovare il nome che va bene a tutti o ci si rende conto che si sta eleggendo il Presidente della Repubblica? No, io credo che sia un passaggio che tutti i parlamentari sentono appunto con responsabilità mentre nel 2013 c'era un senso anche a un certo punto quasi di rassegnazione di impotenza perché io mi ricordo che appunto passavamo questi giorni poi io ero appena arrivata in Parlamento alla prima legislatura alla prima esperienza con gli altri colleghi parlamentari giornate intere nei corridoi con questo senso un po' di incertezza di indecisione anche un po' di impotenza rispetto anche a degli scontri che ci sono stati all'interno del nostro partito che comunque hanno fatto male anche rispetto ai nostri scritti ai nostri circoli per fortuna quella pagina ce la siamo messa alle spalle questa volta è stato un film diverso c'è stata una grande compattezza del PD e c'è stato un consenso amplissimo in Parlamento perché abbiamo sfiorato i due terzi 665 voti vuol dire un apprezzamento grande sul nome di Mattarella in Parlamento è molto ampio perché va da una parte dell'opposizione a tutta la maggioranza di governo quindi ha un valore sicuramente importante noi abbiamo trovato questa foto di lei che fa il segno di ok a qualcuno ci chiedevamo chi fosse se la possiamo far vedere vediamo arriva ecco non ricordo fatta in Mattarella esattamente chi fosse però l'abbiamo fatto con alcuni colleghi del PD probabilmente era Marco Donati che è un amico del mio stesso collegio di Arezzo proprio perché abbiamo vissuto con entusiasmo il momento in cui è stato raggiunto il numero 505 ed è stato eletto il presidente Mattarella è fatta sì perché sono stati giorni appunto di lavoro in Parlamento di lavoro intenso ma anche perché sentivamo proprio il bisogno di riscattarci dall'esperienza del 2013 di dire che eravamo in grado appunto alla quarta votazione con un consenso così ampio di eleggere il presidente di tutti gli italiani e quindi c'è stato un senso proprio anche di calore rispetto alla figura di Mattarella subito negli applausi che ci sono stati oltre a oggi già al momento dell'elezione quindi è stato proprio anche un senso quasi di sollievo per aver aggiunto un risultato così importante tutti insieme poi torneremo su alcuni punti del discorso qual è stato il passaggio che più l'ha colpita personalmente? Ha fatto un discorso il presidente in cui ha declinato tutti i valori della nostra Costituzione molto in concreto però forse il punto che mi ha colpito di più a livello personale è quando ha ricordato il piccolo Taché e poi anche le parole oggi del fratello perché credo che avendo vissuto entrambi l'esperienza drammatica della morte di un fratello anche se in età diverse però in modo così tragico fossero in qualche modo uniti in questo sentimento e io credo sinceramente che con Sergio Mattarella al Quirinale le tante vedove della mafia le fidanzate dei carabinieri e dei poliziotti che nell'epoca delle strage hanno perso i loro compagni i figli che non hanno più un padre a causa del terrorismo forse si sentono più vicini alle istituzioni si sentono un po' meno soli con Mattarella al Quirinale rappresentata anche la perdita allora andiamo a come nasce Mattarella lei conosceva le intenzioni di Renzi o l'hanno sorpresa il nome di Mattarella beh il nome di Mattarella è venuto negli nelle ultime ore diciamo così come nome conclusivo ma è un nome che diciamo da giorni che girava e comunque da tempo girava perché sicuramente è un nome molto apprezzato e molto autorevole ero sicura che Renzi non avrebbe scelto un nome del PD lui non ha scelto un amico di Renzi al Quirinale o un amico del PD al Quirinale ha scelto un amico degli italiani un amico della Costituzione e delle istituzioni però Berlusconi non sembrava apprezzare al di là dell'apprezzamento per la persona però la scelta in Mattarella non lo ha coinvolto no? beh non l'ha coinvinto pur essendo stato comunque il primo anche a riconoscere le capacità e le qualità appunto umane e politiche di Mattarella se lei fosse di Forza Italia ora cosa direbbe a Berlusconi? hai fatto male a fidarti di Renzi? no perché Renzi ha rispettato tutti gli impegni presi con Forza Italia l'accordo tra il PD e Forza Italia riguarda le riforme costituzionali e la legge elettorale e noi quell'accordo l'abbiamo rispettato non l'abbiamo mai rotto penso che abbiamo detto fin dal primo giorno che non c'era invece nessun accordo con Forza Italia sul Quirinale il sabato lo abbiamo dimostrato c'era gente in Forza Italia che si spendeva molto per Renzi uno è Verdini ci ha parlato con Verdini in questi giorni? non ho avuto occasione di parlarci in questi giorni ma io credo che ci siano state delle persone dentro Forza Italia che si sono spese insieme a noi insieme al PD e agli altri partiti della maggioranza per le riforme e per la legge elettorale ci sono dei colleghi parlamentari che hanno lavorato seriamente in questi mesi sulle riforme sulla legge elettorale anche in Forza Italia e va riconosciuto anche il contributo che Forza Italia ha dato e la capacità del PD di coinvolgere una parte importante dell'opposizione e io spero che questo percorso non si interrompa penso che potremo andare avanti sulle riforme perché è un impegno verso gli italiani soprattutto come si arriva alle riforme Angelino Alfano prima ha detto no poi invece ha votato Mattarella ha detto io pensavo il percorso è sbagliato ma il nome è giusto quindi alla fine anche lui si è molto speso per partecipare alla decisione presa da Matteo Renzi a nome del PD finisce la votazione Renzi dice Alfano e all'NCD va bene adesso chi è ferito si lecchi le ferite e da adesso in poi non è che sto a parlare con i cespuglietti con i partitini allora quando Renzi approccia in maniera così dura così anche sprezzante un alleato di governo lei che lo conosce lo fa per dare agli italiani la sensazione che non ha bisogno di nessuno o perché in questo momento ha un'utilità politica parlare in maniera così diretta a un proprio alleato nell'una nell'altra nel senso che secondo me non c'è stato nessun tono sprezzante o aggressivo semplicemente c'è stata la consapevolezza di aver chiuso un passaggio delicato e importante per le nostre istituzioni ma anche la consapevolezza che adesso siamo di nuovo al lavoro per risolvere i problemi concreti delle persone allora noi abbiamo detto se Alfano avesse un'opinione da portare perché dovrebbe non essere ascoltata su questo come è sempre stato ascoltato in passato continuerà ad esserlo anche adesso quello che abbiamo detto noi che ha detto Renzi è se ci sono dei punti specifici concreti da affrontare insieme siamo disponibili come lo siamo sempre stati quello che riteniamo una perdita di tempo inutile sono quelle riunioni un po' impolitichese quelle sì da prima repubblica in cui sostanzialmente si parla di grandi retroscena grande alleanze poco dei problemi concreti delle persone stiamo governando insieme stiamo affrontando le riforme strutturali del paese su quelle ci confrontiamo ma su quelle dobbiamo andare avanti e non possiamo perdere tempo giornate a confronti interi a parlare di politica con i politici no io credo che dobbiamo discutere insieme se facciamo o non facciamo le unioni civili che abbiamo adesso in Parlamento al Senato ad affrontare se dobbiamo portare avanti la riforma fiscale le riforme costituzionali su questo ci confrontiamo dunque mi dice su che cosa ora procederete allora voi avete due grandi canali la riforma elettorale e la riforma della Costituzione adesso cosa succede? beh adesso continueremo ad affrontare le riforme costituzionali alla Camera già dalla prossima settimana perché siamo sicuramente a buon punto riforme costituzionali che portano ad un Senato completamente diverso da quello che conoscevamo fino adesso che portano ad una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni a una riduzione dei costi e su quella strada andremo avanti sicuramente poi dovremo affrontare alla Camera il passaggio io spero definitivo sulla legge elettorale del resto è un anno che ci sentiamo dire che non avremo fatto le riforme costituzionali perché alla fine non ci saremmo riusciti che la legge elettorale se sarebbe bloccata come si era bloccata negli otto anni precedenti e invece le cose vanno invece per fortuna le cose sono andate avanti per l'Italicum potete anche fare a meno dei voti di Berlusconi invece per il Senato vi servono per la riforma istituzionale perché poi tornerà al Senato dove i voti i voti non sono poi così sicuri tra l'altro per ragioni tecniche la legge elettorale e le riforme del Senato sono legate perché se uno abolisce il Senato e si ritrova solo con la legge che riguarda la CAM se non riesce a abolire il Senato si ritrova solo con la legge quindi dovete portare avanti tutte e due l'impressione è che alternativamente abbiate bisogno o della sinistra del vostro partito o dell'aiuto di Silvio Berlusconi è così? beh noi abbiamo bisogno di tutto il nostro partito perché ovviamente il PD deve andare compatto sulle riforme sulla legge elettorale ma come sulla pubblica amministrazione la riforma della scuola della giustizia civile quindi sicuramente il PD deve andare compatto ed è compatto nei momenti decisivi la maggioranza di governo ha i numeri sia alla Camera che al Senato per poter proseguire le riforme anche da soli credo però che sarebbe un peccato ma ce li ha però senza essere d'accordo all'interno del PD perché il PD ad esempio sulla legge elettorale non vuole i capoglista bloccati la sinistra del PD beh vorrei capire infatti come si possa dire che non è d'accordo il PD noi abbiamo approvato al Senato la legge elettorale che è la legge elettorale della ditta l'hanno scelta i nostri iscritti votando alle primarie l'ha votata la direzione del nostro partito l'hanno votata le assemblee dei gruppi del nostro partito e l'hanno votata i senatori al Senato e i deputati alla Camera del PD e raccoglie anche molti dei suggerimenti e delle modifiche proposte da una parte del nostro partito è una legge elettorale buona se non fosse che la sinistra del PD dice no questa legge noi non la vogliamo perché vogliamo le preferenze per tutte ragioni interne al dibattito voi avrete bisogno di Berlusconi io credo che se alcuni deputati del PD dovessero far mancare il proprio voto sulla legge elettorale che è stata scelta dal nostro partito credo che in qualche modo verrebbero meno al mandato che politicamente hanno ricevuto dagli iscritti del PD però lei sa che loro non sono d'accordo ma credo che sarebbero anche che sarebbe un peccato per il paese per i cittadini italiani tutti perché dopo otto anni siamo all'approvazione di una legge elettorale che per la prima volta grazie al balottaggio garantisce la certezza del vincitore e ci dice chi è responsabile delle cose che si fanno non si fanno in cinque anni però lei sa che al di là del fatto che magari non ci sono d'accordo con lei c'è parte del suo partito che non lo è Silvio Berlusconi dice beh insomma adesso mi avete trattato non benissimo ma adesso discutiamone allora questa ipotesi di potersi appoggiare sull'uno o sull'altro quanto dal suo punto di vista di ministro che deve portare in porto queste riforme inizia a diventare rischiosa quanto diventa senti più vai avanti e ne tratti male prima uno poi l'altro prima uno poi l'altro alla fine non è che io rimango senza portarle a casa le viene questo pensiero? No perché non trattiamo male nessuno questa è la premessa però non ci facciamo nemmeno fermare da nessuno perché un conto è ottenere diciamo un confronto avere dei suggerimenti che recepiamo perché nessuno ha l'arroganza di avere la verità in tasca quindi tante modifiche che anche una parte del nostro partito ci ha suggerito sono state ricevute però le cose vanno fatte perché il giochino del più uno da una parte o dall'altra ha portato l'Italia per vent'anni a dire allora si sta a zero quindi il rilancio continuo spesso è un modo per non fare niente ecco io credo che questo noi non ce lo possiamo permettere allora ministro il decreto fiscale abbiamo un cartello ora non ho il numero del cartello ma immagino che la regia lo trovi ugualmente allora questo è il decreto fiscale di cui si discuterà probabilmente tutta la prossima settimana entro il 3% nel rapporto del 3% dell'evasione non ci sarebbero eccola qua soglia di non punibilità per i reati fiscali se l'imposta evasa è inferiore o pari al 3% dell'impunibile o dell'IVA dichiarata frodo e evasione fiscale non sono più punibili penalmente questo secondo alcuni osservatori secondo altri no però secondo alcuni permetterebbe a Silvio Berlusconi di tornare alla politica attiva scavalcando il blocco della legge Severino allora lo farete? allora partiamo allora dalla conclusione del giallo questo non riguarda Silvio Berlusconi nel senso che ci sono stati esperti pareri che hanno confermato che Berlusconi da un lato l'8 marzo finirà di scontare la propria pena quindi terminerà la pena di Berlusconi dall'altro per quanto riguarda la Severino essendo sanzioni di carattere amministrativo e non penale non c'è una retroattività che andrà a riguardare quelle norme lì quindi non si applicherà a Berlusconi vuole che se passi questo decreto e se passa questo decreto gli avvocati di Berlusconi non faranno eccezione non chiederanno che in realtà riguardi anche lui possono chiedere qualunque cosa il problema è che siccome la legge non consente poi di avere ragione ci saranno dei giudici che diranno agli avvocati di Berlusconi che stanno sbagliando io ho fatto l'avvocato quindi lo so che gli avvocati assistono i propri difensori poi la legge è chiara dice delle cose e non si può superare il dato normativo quindi tolto il dubbio che riguardi Berlusconi perché non lo riguarda possiamo chiederci beh sono vent'anni che diciamo che le leggi si fanno Berlusconi possiamo anche decidere che i prossimi vent'anni non le facciamo perché potrebbero riguardare Berlusconi però io credo che faremo un danno agli altri 60 milioni di italiani che nel frattempo continuano per esempio a rischiare di andare in carcere anche se hanno sbagliato magari nei confronti del fisco per una misura comunque non così rilevante perché nessuno resta senza punizione tutti sono puniti e sono puniti a livello amministrativo con delle sanzioni pecuniarie che noi abbiamo raddoppiato rispetto al passato quindi chi sbaglia paga di più questa fattispecie riguarda la frode fiscale non l'errore no si riguarda la frode quindi nella frode c'è dolo c'è l'errore c'è volontà c'è l'intento però c'è anche una proporzionalità rispetto a quanto uno riesce a in qualche modo appunto evadere quindi la porterete convinti che non riguardi Berlusconi ma questo semplicemente perché oggi noi abbiamo una situazione in cui nel nostro paese nel 2013 12 mila accertamenti fiscali in carcere per reati finanziari ci sono 156 persone questo non vuol dire ovviamente che dobbiamo mettere le manette a tutti perché poi vuol dire spesso non metterle a nessuno no? quando si in passato è stato provato a fare interventi di questo tipo e poi alla fine non è andato in carcere nessuno io non credo che la soluzione sia mandare tutti in carcere io credo che la soluzione sia far pagare di più a chi sbaglia e a chi in qualche modo sta affrodando lo Stato ma sta affrodando tutti noi tutti quelli che pagano lo fate questo decreto del 3% come abbiamo detto lo riporteremo in Consiglio dei Ministri stiamo approfondendo gli elementi tecnici in modo tale che possa funzionare bene che possa essere efficace che possa essere vantaggioso per i cittadini soprattutto per rendere il rischio più semplice senza domandarvi di che destino avrà Berlusconi noi lo stiamo approfondendo e come abbiamo detto c'è un impegno a riportarlo in Consiglio dei Ministri proprio per questo però siccome non riguarda Berlusconi non possiamo neanche pensare che tutto debba rimanere fermo cristallizzato se sono norme buone le possiamo correggere per quello che c'è da correggere ma per renderle migliori per i cittadini torniamo dove eravamo partiti dal Presidente Mattarella tutta la copertina di Crozza è stata sul fatto che era una figura del passato cartelle 8 e 9 e come Renzi finora aveva approcciato le figure del passato allora D'Alema, Veltroni, Bindi, Marini in quest'anno avete fatto molto per il Paese ma adesso anche basta su Bindi sta in Parlamento da prima della caduta del muro di Berlino Veltroni e Franceschini il primo era a disastro il secondo vice-disastro cartello successivo Marini è un uomo del 99 ma intendo il secolo scorso questo era quando fu candidato a Presidente della Repubblica Fino Chiaro la ricordiamo per la spesa all'Ikea con la scorta Enrico Letta che però ha l'età di Matteo Renzi via Letta per uscire dalla palude allora è diverso il ruolo per cui va bene una figura del passato è diverso il ruolo di Matteo Renzi che ormai è più sicuro del potere che ha o almeno del governo che sta svolgendo e quindi si permette di accettare anche figure che prima invece gli davano gli avrebbero fatto da avere il sapore di persona che non rompe con il passato cosa è cambiato perché Mattarella si è salvato da quei giudizi perché è un rottamatore perché è uno che ha rinunciato alla poltrona per una legge del suo governo che non condivideva e io credo che questo sia perfettamente in linea con la politica che portiamo avanti noi non abbiamo mai fatto della nostra richiesta di rinnovamento all'interno del nostro partito e poi nel paese un elemento d'età generazionale pure la Finocchiaro fu magistrato che agì in Sicilia ugualmente Franco Marini ha un passato di lotte storiche molto dure sicuramente sono persone che hanno un percorso politico autorevole ma che non erano un elemento di in qualche modo convergenza ampia quando sono stati proposti come candidati noi in modo molto trasparente nel 2013 abbiamo detto che alcuni candidati se fossero stati proposti dal PD non li avremo condivisi Mattarella che ha sicuramente delle qualità personali indubitabili perché gli vengono riconosciute anche da coloro che non lo hanno votato e che ha sicuramente un percorso politico come garante appunto della Costituzione conoscitore delle istituzioni che ha lottato contro la mafia è anche una persona che ha saputo fare un passo indietro per esempio non ricandidandosi nel 2008 oppure scegliendo appunto anche di uscire dal governo di cui non condivideva delle scelte dopodiché è ovvio che al Quirinale abbassare una persona che ha equilibrio che è garante di tutti e lo stesso Presidente oggi nel suo discorso ci ha tenuto a rimarcare che sarà un arbitro imparziale perché così doveva essere era mai capitato di parlarne con Berlusconi di Mattarella prima che Renzi facesse il nome? Io personalmente no non so sinceramente se ne ha parlato Renzi perché non partecipo a quegli incontri come si immagina l'Italia da qua a dieci anni lei avrà poco più di quarant'anni tra dieci anni beh io mi immagino un'Italia sicuramente più moderna io mi auguro un'Italia più orgogliosa di se stessa di quello che è oggi e soprattutto un'Italia più semplice io mi auguro che tra dieci anni ci sarà un'Italia in cui i processi durano meno di dieci anni in cui la scuola funziona bene e le scuole sono sicure in cui si pagano meno tasse in cui finalmente avremo un nuovo assetto istituzionale ma io mi auguro che questo avvenga molto prima dei prossimi dieci anni grazie al ministro Maria Elena Boschi grazie a voi grazie ministro bocca al lupo per tutto davvero grazie allora vi faccio faccio entrare se possono intanto Luigi Zanda il capogruppo del PD al Senato Giuliano Ferrara che conoscete tutti Maurizio Landini segretario della FIOM da qualche parte entreranno non vi preoccupate eccoli che stanno arrivando Maurizio Belpietro Stefano Feltri mentre si sistemano vi faccio vedere cosa ha detto alla nostra Emanuela Giovannini Giorgio Napolitano prego benvenuti e accomodatevi grazie come sta? io sono stanco in generale non per le cose di questi giorni è una stanchezza accumulata come è stato l'incontro con Mattarella? beh eccellente ci conosciamo da tanti anni io l'ho sempre molto apprezzato e rispettato lui è venuto come voi sapete a ringraziarmi per il mio impegno di tutti questi anni quindi è stato il meglio che si potesse immaginare poi la sua stessa iniziativa e insistenza per venire a salutarmi a casa ha dimostrato anche come dire un sentimento di vicinanza e amicizia che è pienamente corrisposto da me quali sono le preoccupazioni di Mattarella in questo momento? ma noi ieri abbiamo avuto uno scambio di idee soltanto soprattutto uno scambio di informazioni a cui lui era interessato soprattutto sulla struttura della Presidenza della Repubblica non abbiamo affrontato questioni di merito tranne quelle che sono ovvie diciamo circa l'impegno che lo aspetta il compito è più arduo che dovrà affrontare il compito di una rinnovata unità nazionale che non significhi certo annullamento della dialettica tra posizioni politiche e culturali diverse ma che significhi forte senso dell'interesse comune forte interesse per la coesione sociale e nazionale e in questo senso è qualche cosa di irrinunciabile pochi minuti pubblicità e poi chi ha vinto e chi ha perso non è stata un'elezione indolore Emanuela Giovannini e Andrea Scazzola c'è il senso che si transenna tutto quanto Piazza Venezia Piazza Venezia è qua ne vediamo sempre tanti ne vediamo tra papi e presidente ha qualcosa di diverso questo nuovo presidente i capelli bian 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 perché era doniziano di sinistra questo no poi si è dimesso da ministro per la legge Mammì quindi Berlusconi sarà contentissimo di questo l'abito lo deve essere e sarà imparziato i giocatori lo aiutino con la loro correttezza Berdini il patto del Nazareno è saltato e adesso che si fa continuerà a essere uomo della trattativa oppure bisogna rompere la giornata che oggi avremo preso i diritti della Repubblica di tutti anche vostro Berlusconi ha perso oppure stavolta vediamo 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 Berlusconi ha perso dicono dal 1994 1994 noi abbiamo fatto la figura dei signori e Renzi ha fatto la figura del bugiardo è terribile Renzi mi dicono che chi lo conosce bene diano questa definizione che quando c'è la curva invece di rallentare come fanno tutti accelera accelerato questa volta anche in questo caso se si illude di essere a capo di un governo monocolore il partito democratico sbaglia i voti di NCD sono essenziali tutto bene perché finisce bene dobbiamo presentare la Repubblica io sono molto contenta guardate ho anche un bracciale in omaggio al presidente che è un bracciale con tutte le vedute con vedute di tutte le città siciliane più importanti e vabbè è stato pescato allora Maurizio Landini che idea si è fatta in questi giorni? mi sono fatto l'idea che sul piano diciamo così politico senz'altro è stato un successo del presidente del consiglio segretario anche del PD questo in modo chiaro dall'altra parte penso che sia stata eletta una persona con molte competenze su cui ci sono tante aspettative nel paese penso da questo punto di vista che il discorso che oggi ha fatto sia un discorso molto importante che rimette al centro la Costituzione la sua applicazione lui ha parlato di applicazione dei principi della Costituzione per cambiare questo paese io mi auguro che lui sia garante di questo come a volte non è successo sostanzialmente in questi anni a partire dal fatto che il primo tema centrale è il lavoro che oggi non c'è e dall'altro il problema del nostro paese è il livello di evasione di corruzione di criminalità che ormai controlla pezzi interi dell'economia reale e quindi da questo punto di vista io credo che siano anche i punti più deboli al contrario dell'azione del governo perché mi pare che le debolezze proprio dell'azione del governo siano proprio una scarsa lotta alla criminalità e sul lavoro mi pare che abbiamo ancora grandi problemi ha sentito ora il ministro Boschi ha detto noi il decreto del 3% lo porteremo avanti perché tecnicamente non riguarda Berlusconi se anche non riguarda Berlusconi le piace? no io non ho mai pensato che riguardasse solo Berlusconi la cosa è molto più grave perché noi siamo di fronte ad un decreto che in realtà depenalizza la frode fiscale e a proposito di Costituzione la nostra Costituzione dice che chi più prende più deve pagare noi siamo le tasse in questo caso il reddito chi è più alto più deve pagare lì siamo di fronte a un decreto che capovolge questo principio perché dice che chi più prende più può evadere e addirittura l'evasione non è più penalizzata quindi da questo punto di vista quando io dico che ci vuole un cambio io mi sono stancato di sentirmela raccontare capisce? cioè le favole ne ho già sentite troppe allora dal mio punto di vista il problema è cosa concretamente si fa allora glielo dico perché in questi giorni io vengo da una regione l'Emilia Romagna che non solo un po' di tempo fa ha avuto solo il 37% di gente che è andata a votare in questi giorni stanno arrestando una quantità di persone infinite perché si scopre che in una regione importante avanzata come la nostra la Andrangheta controllava ormai i pezzi interi dell'economia allora io dico che questo non si può a tutte le volte svegliarsi dicendo Dio Bono cosa è successo perché questi problemi sono anni che ci sono il fatto che non vengono ad investire nel nostro paese non è perché c'era l'articolo 18 perché c'erano troppi diritti è perché ormai la criminalità organizzata controlla pezzi interi dell'economia reale allora qui c'è un punto concreto e io mi permetto di dire che quel decreto lì per me non era grave perché dice lo fanno per Berlusconi no è più grave perché in questo caso quando uno arrivi a dire che se fai una fattura falsa fino a 999 euro non è reato quando fai delle cose che addirittura permette alle banche che hanno fatto cose strane sui derivati di non pagare siamo di fronte a una logica che anziché colpire l'evasione anziché favorire l'onestà stabilisce che invece è un coglione quello che paga le tasse in questo paese allora allora Giuliano Ferrara ci sono due temi questa cosa il governo dovrebbe cominciare a fare se anche il governo ascolta le parole del Presidente della Repubblica non si compiace solo perché l'ha eletto ma comincia a fare anche quello che ha detto io mi permetto di dire deve proprio cambiare radicalmente le politiche che ha fatto fino ad oggi Giuliano Ferrara ci sono due temi qua uno dei contenuti ora ci arriveremo al decreto fiscale ma prima ci dà un quadro di quello che è successo è vero che Renzi si ha messo nel sacco Silvio Berlusconi ma insomma non è che gli ha proposto la Boccassini Presidente della Repubblica e l'età ce l'ha non è che gli ha proposto Prodi quello che l'ha sconfitto due volte alle elezioni gli ha proposto Mattarella un arbitro un uomo della vecchia sinistra democristiana tra l'altro molto fuori dai giochi nella riserva della Repubblica giudice costituzionale votato anche da Berlusconi è passato per un voto come giudice costituzionale qualche anno fa Mattarella col voto di Berlusconi dei Berlusconiani dei Berlusconidi quindi non è che gli ha fatto una proposta da Marziano sì la differenza è che Bersani che sembrava essere il nemico lo smacchiatore di Giaquari quando si doveva eleggere il Presidente della Repubblica andò da Berlusconi e gli disse dunque io ti offro una terna Mattarella Marini non mi ricordo più chi è Prodi è Amato credo no? no è Prodi è Prodi no o Amato non mi ricordo tu chi scegli e Berlusconi dice no Mattarella non lo voglio preferisco Marini per affinità personale per amicizia per accessibilità eccetera Bersani invece Renzi che doveva avere fatto un patto piduista vergognoso per far filtrare dappertutto la criminalità anche in Emilia Romagna per consentire una grande ondata di evasione fiscale per arricchirsi alle spese del proletariato queste palle ci raccontiamo in televisione l'arricchimento l'ha già fatto anche senza l'intervento Berlusconi ha arricchito l'Italia non se spesso soltanto perché ha fatto un'industria mentre tu chiacchieravi come Marcion che mentre tu chiacchieri di lavoro assume 1500 persone quindi lascia stare Landini la demagogia sta a zero comunque per rispondere alla sua domanda per rispondere alla domanda di Flori per rispondere alla domanda di Flori ma non mescoliamo le cose e poi gli ritornano lasci concludere invece Renzi che doveva fare questo patto accelerato è andato da Berlusconi e ha detto no guarda è Mattarella o così o niente però gli ha proposto quello che già gli piaceva ci dice lei cioè ha fatto il salto allora non ci siamo capiti Bersani nemico di Berlusconi ha proposto una terna di nomi e Berlusconi ha potuto scegliere di Renzi invece gli ha detto Martarella punto e basta va bene e di Renzi si diceva che avevano fatto dei patti loschi terribili eccetera quindi prima di tutto non bisogna stare a sentire le prime coglionate che si dicono in televisione e sui giornali il patto del Nazareno non comprendeva il Presidente della Repubblica secondo Berlusconi ha fatto un errore tipico suo siccome non è un tecnico della politica un politico professionale è un privato ha avuto una botta di cattivo umore ha detto me lo dici troppo tardi non mi lasci la possibilità che me l'ha lasciato Bersani di scegliere fra due o tre nomi me la metti così si è arrabbiato e ha detto non l'ho dovuto ma dopo di che ha telefonato a Mattarella gli ha detto guarda non è per la persona per il metodo per il metodo sono quelle cose che scegliamo all'italiana allora replica di Landini poi Belpietro no io non dico soltanto è vero che alla fine diciamo erano due atteggiamenti uno di sinistra dice Ferrara quello di Bersani che in realtà però poi dava la scelta a Silvio Berlusconi e l'altro invece più pragmatico che alla fine è stato ha portato più risultati io vi consento questa battuta Berlusconi è vent'anni che dice che il pericolo in questo paese sarebbero i comunisti in realtà è stato fregato dai democristiani come raccontava qualcuno quindi forse dovrebbe essere un po' più attento diciamo a quello che avviene detto questo io mi limito ad osservare da questo punto di vista un dato oggettivo che è avvenuto di fronte a questa elezione per come è avvenuto nel paese c'è un elemento di fiducia rispetto a quello che è avvenuto che è esattamente l'opposto di quello che è successo due anni fa ora io dico perché se ascolto sempre il discorso c'è stato anche un ragionamento che ho trovato molto importante del resto anche questo è un punto della Costituzione in cui il Presidente ricorda come sia importante per affrontare i problemi il coinvolgimento anche delle forze sociali e delle formazioni sociali nel prendere le decisioni e nel formare anche il processo di cambiamento mi sembra che sia l'opposto di quello che sta facendo questo governo adesso naturalmente sentiamo il capogruppo al Senato del PD prima il parere di Maurizio Belpietro allora cosa è successo dal suo punto di vista e chi rimane col cerino in mano ma è successo una cosa semplice bisogna tornare indietro un anno fa a gennaio quando Berlusconi era fuori dai giochi e viene riabilitato sostanzialmente da Renzi perché Renzi lo chiama fa il patto del Nazareno Berlusconi ha ovviamente dei benefici da questo patto del Nazareno innanzitutto perché torna sulla scena e comunque ha un ruolo che altrimenti non avrebbe avuto perché stava confinato ai servizi sociali fuori dal Parlamento quindi certo non era nelle condizioni migliori per poter dettare legge sottoscrive un patto del Nazareno che prevede le varie cose le riforme il Senato la legge elettorale anche la Presidenza della Repubblica ovvero facciamo in maniera condivisa discutiamo insieme chi portare alla Presidenza della Repubblica credo anche che ci fosse già un nome e che fosse Giuliano Amato Berlusconi si presenta per incassare questa promessa sostanzialmente ma si sente dire invece un altro nome quindi dal suo punto di vista si sente fregato ovviamente se poi fa il bilancio di tutto quello che è accaduto in questo anno beh in fondo le carte che aveva in mano all'inizio erano scarse se non quasi nulla insomma e quindi alla fine fregato ma ci può stare ci può stare che cosa accade la cosa strana è che a un certo punto l'NCD segue Berlusconi su questa linea e poi si rende conto che non può stare al governo se vota contro il Presidente della Repubblica e quindi torna sui suoi passi ma ora di NCD ne parleremo col Ministro Lupi che sta venendo a trovare questo è ciò che è accaduto oggi io credo che comunque il patto del Nazareno rimesso insieme ai cocci ci sia ancora Presidente Zanda ci dia la sua versione dei fatti come è andata? Ma guarda io credo che l'Italia aveva bisogno di un Presidente della Repubblica e serviva quindi prima di tutto individuare la persona che avesse le qualità che avesse una sua storia personale che desse le garanzie che servivano al Paese in un momento difficilissimo di grandissima crisi serviva naturalmente una maggioranza parlamentare quanto più larga possibile e serviva un Presidente che avesse anche un rapporto con l'opinione pubblica cioè che sapesse suscitare l'opinione pubblica dei sentimenti di fiducia e fosse credibile e la scelta è caduta su Mattella io credo una scelta molto felice perché la maggioranza è stata larghissima quasi due terzi l'opinione pubblica ha accolto in un modo mi sembra straordinariamente favorevole la nomina la persona per chi la conosce perché è una persona di grandissimo valore in Tegeri ma ha una vita che dimostra quali sono le sue qualità quindi io non la non andrei a fare che è spiritosa grandi dietrologie direi che c'era un obiettivo l'obiettivo è stato raggiunto è stato raggiunto dall'A alla Z quindi va bene così Stefano Feltri adesso si riparte da quel decreto fiscale che ha già fatto scaldare Landini che significato ha? ma le cose che ha detto poco fa qui Maria Elena Boschi sono abbastanza incredibili perché noi avevamo capito almeno che c'era nel governo la volontà di togliere la frode fiscale perché a differenza di quello che ha detto la Boschi uno non fa una frode perché si sbaglia la frode vuol dire che uno si mette di impegno per imbrogare il fisco c'è il dolo perché sennò non si chiama frode sennò è un errore e non è neanche vero che non avrebbe beneficiato Berlusconi perché se uno viene condannato per frode fiscale e poi la frode fiscale che ha fatto non è più un reato non può mica continuare a risultare colpevole per una cosa che il legislatore ha deciso che non è più un reato diciamo che là ci sono delle letture e delle osservatoriche però chiaramente Berlusconi ci proverebbe insomma Berlusconi ne avrebbe sicuramente beneficiato poi la cosa che era la decadenza della Severino esatto la cosa che era poi da discutere era se la fine diciamo dell'aspetto penale della frode fiscale comportava anche la caduta dell'interdizione della Severino che è una legge che è un po' ambigua perché uno viene interdetto ai pubblici uffici se non può ricandidarsi per colpa di una sentenza però non è una conseguenza penale una cosa giurissima insomma il concetto è che la cosa un qualche interesse per Berlusconi ce l'aveva ma al netto di Berlusconi si riparte proprio da là facciamo finta che abbia ragione la Boschi che Berlusconi non c'entra se anche non c'entra ma non si può in questo paese in questo momento fare una legge in cui si dice che puoi evadere per una certa percentuale perché appunto come diceva anche Landini prima uno più fattura più può evadere quindi si dà un credito fai pure un po' poi non è che uno evade per il 3% se sa che fino al 3% è salvo evade per il 6% per il 7% perché sa che fino al 3% non lo beccano quindi bisogna mettere almeno un tetto in euro non in percentuale se no una grande banca può evadere molto in più molti milioni di euro anche teoricamente questa è una cosa che il governo Renzi non può fare per due ragioni uno perché perderebbe la faccia anche di fronte a un Presidente della Repubblica che ha fatto mettere il discorso sulla corruzione e sulla legalità la seconda ragione per cui non può farla è che ha fatto una parte della legge di stabilità che prevede un aumento degli introiti della lotta all'evasione come se aumentano gli introiti della lotta all'evasione se si mette una soglia all'evasione lecita? parte da questa contraddizione Renzi che ora dovrà fare un decreto che secondo Stefano Feltri e secondo Maurizio Landini contraddice le parole del Presidente che ha appena eletto una caratteristica di Renzi penso che gli vada riconosciuta anche se sia in dissenso dalla sua ideologia dalla sua visione dell'Italia dalla sua cultura da come agisce in quanto Presidente del Consiglio una caratteristica di Renzi è di non avere l'ossessione isterico-nevrotica compulsiva di fronte al nome Berlusconi noi siamo qui quasi tutti forse solo Belpietro e Dio ma anche Zanda non ne siamo affetti come il dottor Stranamore come il dottor Stranamore nel film di Kubrick anche la cosa che deve alzare per forza appena si nomina Berlusconi la gente si gasa allora Berlusconi è stato cacciato da Presidente del Consiglio dopo essere stato avvilito e sputtanato da un'inchiesta che si è rivelata fallace perché è stato assolto in giudizio sulla sua vita privata è stato esposto all'udibrio dei capi di Stato europeo ha fatto la rimonta elettorale ha ottenuto la rielezione di Napolitano il governo di larga coalizione con Letta poi è stato condannato per frode fiscale lui che era il proprietario mentre l'amministratore delegato dell'azienda non è neanche nel processo per capirci ha subito una scissione di opportunisti ministeriali che sono rimasti nel governo dove lui li aveva indicati e sono rimasti tutti nei loro posti di governo dicendo ciao arrivederci insomma Berlusconi praticamente è da un certo punto di vista un grande naufrago dopo vent'anni di navigazione è finito sugli scogli e noi qui tutti a dire oddio Berlusconi il 3% ma è una cosa ridicola ridicola se quel decreto è giusto per le casse dello Stato e per dare al ceto medio maggiori sicurezze quando paga le tasse va fatto e se Berlusconi se ne ha vantaggio meglio se no no punto Maurizio Landini io vedo che c'è diceva il dottor Ferrara che fa degli effetti strani vedo che a qualcuno fa anche l'effetto e come lo sente lo deve difendere e parlare molto tempo per difendere a me è Landini che mi fa questo effetto non Berlusconi ah è Landini non sapevo di fare questo effetto per fortuna che non ci vediamo tantissimo così non ha questo effetto però io faccio io non ho mai pensato che il decreto era sbagliato perché poteva aiutare Berlusconi io ho sempre pensato che quel decreto lì è sbagliato e non è accettabile perché in questo paese la corruzione è un'evasione fiscale e le mafie vanno combattute e siccome questo è un paese dove le tasse le paga per l'83% dell'IRPEF è pagata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati e siamo di fronte a un paese che ha un livello di diseguaglianza che non ha precedenti che è uno dei problemi che noi abbiamo di fronte allora lo dico perché per me e insisto in un paese oggi il premier Renzi si è incontrato anche col premier greco bene in un paese come il nostro che ha un livello di debito pesantissimo che per combattere la disoccupazione tu devi far ripartire gli investimenti vorrei far notare a tutti non dichiarato da me dalla Banca d'Italia dice il presidente il direttore della Banca d'Italia non solo che ci sono 180 miliardi di versioni 60 miliardi di corruzioni dichiara lui che molte imprese non sono venute a investire nel nostro paese per i problemi della criminalità organizzata e dice che stiamo perdendo dei soldi allora su questo io penso che il governo e anche il premier dovrebbero avere perlomeno la stessa determinazione con cui ci sono mossi anche per tagliare lo statuto dei lavoratori e per tagliare i diritti dei lavoratori questo è il punto di fondo posso dare un suggerimento noi stiamo parlando di una norma che il governo aveva presentato e che ha ritirato e che ha annunciato che avrebbe riesaminato sotto e che l'avrebbe ripresentata il 20 di febbraio possiamo discutere di una norma che c'è e non di una ipotesi di norma che non c'è perché no perché il governo l'ha ritirata annunciando che l'avrebbe riesaminata sulla base delle obiezioni che abbiamo adesso sentito e che sono obiezioni sede che vanno esaminate vediamo aspettiamo che la norma venga approvata cioè che ci sia l'hanno già approvata non c'è l'hanno già approvata devono cancellare ma non la vada devono cancellare la discuterà il consiglio dei ministri il 20 di febbraio l'hanno già approvata l'hanno già approvata però era singolare che il consiglio dei ministri molti ministri non sapevano che cosa avevano fatto l'ho trovato singolare io al governo non ci sono mai stato però ho trovato che questo era un elemento un po' delicato questa è un'altra questione questa è un'altra questione qualcuno lo sapeva io so che il governo si ordinarà il 20 di febbraio per esaminare ed approvare una norma che ancora non conosco quindi invito a discutere una norma nota e non una norma pubblicità e poi da qua rimarchiamo pubblicità allora ci hanno raggiunto Anna Ascani del PD buonasera onorevole e Maurizio Lupi ministro delle infrastrutture NCB buonasera ora parleremo delle politiche del governo ma l'NCD è quello che ci è rimasto peggio o no? ci è rimasto peggio? perché dice così assolutamente mi sembra che tutto sia tranquillo si ha fatto beh si lecassero le ferite noi non possiamo parlare proprio con tutti beh innanzitutto anche per rispetto alle cose che ho sentito prima noi avevamo sulla scelta del Presidente della Repubblica anche insieme a Forza Italia al Presidente Berlusconi non criticato e non detto che Mattarella non era la persona giusta per andare a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio ma ha criticato un metodo con cui Renzi aveva proposto la candidatura sanare le divisioni al ricompattare è il linguaggio renziano il Partito Democratico sanare le divisioni all'interno del Partito Democratico le diverse correnti eccetera attraverso una figura autorevole come quella di Mattarella e poi dire questo è il candidato di fronte nella discussione che abbiamo fatto nei due giorni precedenti di fronte alla persona che va bene e il metodo che è sbagliato era assolutamente incomprensibile se la persona va bene non eleggere quella persona a rappresentare il Presidente della Repubblica tra l'altro oggi mi è sembrato anche in Parlamento un segnale molto forte da lì qualche piccola discussione con il Presidente del Consiglio c'è stata ma la sintesi io la tiro in questo modo la lealtà rispetto ad un obiettivo non l'opportunismo ma la lealtà rispetto ad un obiettivo e cioè in 18 mesi mettiamoci insieme e cambiamo con coraggio il Paese non vuol dire non dire le cose non vuol dire non dare un contributo positivo e abbiamo detto che come nuovo centrodestra che se Renzi come eletta erano al Governo era grazie al senso di responsabilità che il nuovo centrodestra ha avuto e che tra l'altro e tra l'altro devo dirlo che i primi risultati forse nel 2015 inizieremo a ora ne parliamo Giuliano Ferrara a raccoglierli che devo dire lei diceva una compagine ministeriale graziati Berlusconi è stato abbandonato perché c'era una compagine ministeriale una compagine di ministeriali opportunisti eccetera no no quello l'ho detto prima scusate Berlusconi vi ha indicato al Governo ha detto Lupi va all'infrastruttura Alfano va a fare il ministro di interno eccetera poi lo hanno comandato e voi avete detto ciao bye bye ma Giuliano Ferrara adesso non per no ma Giuliano Ferrara Giuliano Ferrara Giuliano Ferrara ma non vuol dire no ma no non per riandare la storia è che tutta la contraddizione che ha vissuto e continua a vivere Forza Italia dal novembre del 2013 e oggi sta esattamente su questo non è che Berlusconi ebbe l'intuizione forte di fare un Governo di larga intese perché il Paese era nella palta più totale e le elezioni erano quelle che erano state nel 2013 rispetto alla questione giudiziaria di cui noi l'abbiamo sempre sostenuto e difeso lui ha scelto legittimamente di anteporre quel tipo di battaglia a quello che noi ritenevamo invece fosse il compito della politica si chiama Mattarella oggi l'ha definito bene comune è una parola a cui io tengo molto l'unica cosa che non accetto è l'idea dell'opportunismo del poltronismo o del fare i cespugli piuttosto di quant'altro ognuno dà il suo contributo ma la verità no no non è la verità comunque io volevo dire la mia qual è la verità che sanno tutti gli italiani ma dove non mi sembra però vogliamo sempre in omaggio alla verità passare dalla discussione sul 3% alla sottostante discussione secondo voi non è grottesco che Berlusconi sia invitato al Quirinale alla cerimonia di insediamento di Mattarella guidi cento e più deputati nei loro comportamenti parlamentari sia presidente di un partito nazionale il suo coordinatore alla scorta è un ex presidente del consiglio per vent'anni ha fatto infuriare mezza Italia non è assurdo che Berlusconi sia interdetto fino al 2020 dal partecipare alla corsa elettorale però Florio è una cosa su lupi che ora deve parlare anche con Belpietro o sarà un'altra cosa discutiamo se vogliamo reinserire se è grottesco poi Belpietro su lui quello che distingue le democrazie dai regimi autoritari è che la legge più forte delle persone c'è una legge che ha votato anche il centrodestra di Berlusconi e Berlusconi è caduto vittima della sua stessa legge cioè la legge Severino per cui sarebbe una cosa preoccupante se a Berlusconi quella legge non si applicasse proprio perché è un ex presidente del Consiglio non conta solo il curriculum conta anche la fedina penale ora ci torniamo Belpietro come legge lei lo stato di NCD NCD si trova schiacciato tra il movimentismo del presidente del Consiglio e l'altro polo di centrodestra che è Forza Italia cercava di uscire da questa situazione lo ha fatto soprattutto in vista delle elezioni regionali si è rialleata con Forza Italia perché si rendeva conto che se fosse rimasta in mezzo avrebbe avuto qualche problema e lo ha fatto proprio nel momento in cui c'era l'elezione del presidente della Repubblica si sono presentati convinti di avere una linea chiara definitiva sicura perché dall'altra parte Renzi doveva concedere qualcosa sul presidente della Repubblica e si sono trovati invece senza carta in mano a questo punto anziché decidere o di dire sì subito oppure di fare fronte comune con Berlusconi prima hanno detto di sì poi hanno detto di no non si capisce la ragione francamente o meglio la si capisce benissimo rischiano di andare a casa tutti perché Renzi ha detto chiaramente guardate che se non votate il presidente della Repubblica io faccio la crisi vi mando a casa e vi sostituisco con quelli che trovo cioè con quelli che abbiamo letto tutti quanti un po' di sinistra Ecologia e Libertà un po' di Movimento 5 Stelle un pezzo del loro partito il loro partito per la Boschi che era qui forse l'unica cosa che non ci siamo fatti dire è che lei ha convocato 11 esponenti del nuovo centrodestra e li ha convinti a votare per Mattarella in dissenso con il partito quindi ha provocato un'ascissione praticamente di fatto dentro l'NCD quindi loro antiché decidere di avere una linea sono tornati indietro ognuno poi sceglierà se essere messo così male o no però forse ha avuto un'educazione troppo semplice meno intellettuale eccetera ma mi sembra no no è molto banale e semplice ma infatti per semplificare a chi mi ascolta quello che non era comprensivo e tra l'altro lo dico anche rispetto ai commenti di oggi compreso quello del Presidente Berlusconi ha detto è una brava persona abbiamo eletto la persona giusta speriamo che faccia l'arbitro e sia il garante se hai ed è stato il ragionamento che noi abbiamo fatto criticando esattamente il metodo di Renzi che secondo me è stato un metodo sbagliato ma se io prendo abbiamo iniziato a discutere ma scusi il voto avveniva alla quarta votazione ma se io ho la persona giusta posso alla fine decidere di non votare quella persona giusta questo è quello che è stata una domanda banale tra il metodo e la persona e la persona mio papà mi ha insegnato questo alla fine posso aver sbagliato due giorni prima abbiamo ridetto e ribadito come ribadiamo con un piccolo particolare in consiglio dei ministri non è che abbiamo il parocchi non guardiamo le cose che arrivano in consiglio dei ministri eravamo tutti ben coscienti della proposta che Renzi aveva portata sapevate che ne avrebbe potuto godaliare anche Silvio Berlusconi l'abbiamo letta insieme no qui ha ragione Ferrara non è che ogni volta che arriva una legge è per Berlusconi c'era una proposta di semplificazione fiscale però ministro siete tutte persone accolte politicamente siete tutte persone accolte politicamente non potevano risuonare un decreto che incide sulla frode fiscale scusi un decreto che incide sulla frode fiscale o meglio no no il problema che non c'entra Berlusconi il problema che se tu vuoi semplificare la vita dei cittadini e combattere fortemente l'evasione fiscale e ottenere di più ovviamente dai cittadini cosa vuoi fare da una parte l'aspetto penale lo fai e lo fai per chi evade pesantemente l'aspetto invece amministrativo e la pena amministrasiva è quella di dire che se tu hai evaso fino al 3% fino al massimo del 3% è che scappi paghi il doppio di quello che hai evaso la filosofia del decreto che stiamo facendo è la semplificazione nei confronti dei cittadini non c'entra niente agevolare gli evasori scusate allora mettiamo da parte Silvio Berlusconi e parliamo di fisco noi ci entriamo dalla porta del reverse charge e allora abbiamo fatto la cosa più giusta ma di fisco parliamo Paola Baruffi e intanto salutiamo Giuliano Ferrara che ci raggiunge dopo sulla legalità con Sergio Cofferati tra pochi minuti a dopo arrivederci Paola Baruffi perché vedi non solo sui materiali ma anche sul furgone io l'IVA la pago ogni mese il problema dell'IVA è che dal primo gennaio molti imprenditori non la possono più compensare si chiama reverse charge o per chi lavora per la pubblica amministrazione split payment funziona così quando il tuo cliente ti paga non ti dà più l'IVA perché la versa direttamente all'erario e allora quando è che gli imprenditori che invece l'hanno versata per comprare materie prime e macchinari potranno recuperarla? non si sa sai i rimborsi dello Stato si sa che non sono veloci il problema è che non riguarda solo me come impresa di pulizia riguarda anche idraulici falegnami impiantisti a cui si aggiungono tutti quelli che lavorano per la pubblica amministrazione sugli acquisti di materiali trasporti e noli noi la paghiamo e ci sono lavori in cui l'incidenza dei materiali dei noleggi è importante insomma se prima mi davano 110.000 euro di IVA ma io ne dovevo recuperare 66.000 ne versavo 44 ed eravamo a posto così adesso 110.000 non me li danno più e io rimango con un credito di 66.000 quindi in un caso come questo voi avreste anticipato allo Stato 66.000 euro gratis gratis il timore è che io ho tanti crediti che non riuscirò ad avere nei tempi dovuti perché finché lo Stato non stanza dei soldi per darmi per istituirmi e quei soldi rimangono come maggiori entrate per lo Stato una specie di prestito forzoso fatto dagli imprenditori e se fosse esteso anche a chi lavora per la grande distribuzione si parlerebbe di una gran bella cifra pensi per un'azienda come Conad che fa 11 miliardi e mezzo di fatturato nell'arco di un anno si somma qualcosa di credito nei confronti dello Stato che va da un minimo di 800 al miliardo Mentre il negozio che compra le merci e le rivende da questo giro ci guadagna perché invece di versare l'iva a lui la paga solo dopo averla incassata dai consumatori finali Lo Stato con questa manovra ha detto cara grande distribuzione cara industria siccome tutta questa mossa è un'anticipazione che va a non meno di 10-12 miliardi mi finanzio questi 12 miliardi da te ma in più mi finanzio senza pagarti una lire di interesse facendoti pagare a te i costi per le fideusioni perché in questa maniera lo Stato si ritroverà nel 2015 e nel 2016 ad avere incassi fasulli di anticipazione di soldi e apparirà che adesso finalmente pagano tutti quanti di più IVA ma non è vero scaduto il periodo della legge che sono i 18 mesi tornerà tutto come prima E a essere in crisi c'è tutta la filiera e allora per evitare di trovarsi senza soldi e di andarli a chiedere alle banche l'unico modo sarebbe quello di non pagare l'IVA neanche quando si comprano le materie prime e un modo ci sarebbe se il prodotto lo comprasse da un'azienda austriaca succederebbe che io potrei comprare un prodotto senza pagare l'IVA perché è straniero perché è straniero e con questo criterio praticamente io potrei andare pian piano a sostituire i miei fornitori con quelli di paesi limitrofi oppure ci sarebbe un'altra soluzione e a pensare male di solito ci si azzecca secondo me molte aziende cosa faranno? metteranno di rincari occulti per recuperarsi il prezzo che hanno tirato fuori di quest'IVA secondo me questa cosa porterà un aumento del prezzo dei beni ma anche dei servizi ma come sempre l'alternativa alla padella è la brace perché questa norma del reverse charge per la grande distribuzione deve essere approvata dall'Unione Europea e cosa succederebbe se l'Europa ci dicesse che non si può fare? aumenta l'accesa sulle benzine oppure sui prodotti che andiamo a comprare ogni giorno in quel caso lo pagheremo tutti? tutti allora Maurizio Landini è il fisco la chiave di questo governo probabilmente c'è il decreto fiscale da approvare ci sono dei due provvedimenti alla fine che in questo periodo stanno andando anzi tre poi parleremo dei minimi dei minimi per l'IVA uno è questo questo meccanismo per cui alla fine molti imprenditori si troveranno come anticipare l'IVA per conto dello Stato e l'altro è quel famoso decreto del 3% che ora qua può discutere anche col Ministro delle Infrastrutture io credo che la questione fiscale sia un problema perché in tutti questi anni in realtà tutti hanno parlato di ridurre le tasse ma noi siamo di fronte a una crescita della tassazione verso le persone sia per quello che riguarda tassazioni dirette sia per quello che riguarda anche contributi addizionali che hanno messo le regioni e tutto il resto e quindi che ci sia un problema da affrontare di riforma fiscale di semplificazione anche fiscale utilizzando anche sistemi informatici e avvicinando anche le persone senza altro un tema che c'è del resto noi proprio in previsione del fatto che il governo il 20 dice che riapre questa discussione ad esempio come FIOM abbiamo proprio organizzato un convegno a metà febbraio su questi temi chiamando anche una serie di esperti perché vogliamo avanzare anche delle proposte concrete su come combattere l'evasione fiscale su come riaffrontare questo tema poi vedo un'altra questione che anche ormai che vedo che molte volte nel nostro paese sfugge noi parliamo di Europa solo per ricordarti che ci mettono dei vincoli mentre in realtà bisognerebbe cominciare ad avere una dimensione qui si faceva anche un esempio che se vai in un altro paese c'è un altro sistema io vorrei ricordare che in Europa abbiamo la moneta unica ma abbiamo 18 sistemi fiscali abbiamo 18 debiti pubblici e quindi uno dei problemi che va affrontato è anche quello di costruire in Europa una discussione di questo genere e molto spesso questa dimensione di discussione sostanzialmente non c'è che è un altro tema concreto che io vedo l'elettore del PD che si trova da una parte con un decreto che depenalizza la frode fiscale in quale misura poi si vedrà dall'altra un decreto che fa sì che sia l'imprenditore anticipare allo Stato il pagamento dell'IVA cosa deve pensare della vostra politica fiscale? intanto andiamo per gradi perché ho sentito parlare molto di questo decreto fiscale una cosa non si è detta che è un'attuazione di una delega che il Parlamento ha votato l'unica cosa che c'è oggi cioè il decreto ufficiale arriverà il 20 perché non è stato trasmesso al Parlamento quindi alle commissioni che poi devono poter dare un parere su quel decreto è la delega del Parlamento dentro la delega del Parlamento cosa c'è scritto? Uno che bisogna abbassare la pressione fiscale quindi bisogna istituire un fondo per ridurre la pressione fiscale due che bisogna istituire una collaborazione produttiva tra il contribuente ed il fisco tre che bisogna rivedere le sanzioni penali da nessuna parte in quella delega c'è scritto che bisogna depenalizzare la frode fiscale quindi questo è un tema che nel PD è chiaramente aperto perché ovviamente c'è una posizione di alcuni anche all'interno del nostro partito che dicono dobbiamo semplificare se citata la Francia in modo anche improprio talvolta però il tema della Francia è importante perché lì c'è un approccio alle questioni penali molto diverso perché lì la responsabilità della verifica del debito fiscale è in capo al fisco cioè non c'è l'autodichiarazione non c'è la responsabilità del contribuente quindi se vai a vedere quanti sono in carcere per reati fiscali in Francia dove c'è la somma massima di 153 euro una cosa di questo tipo in realtà sono 98 persone perché? perché c'è un regime completamente diverso per cui è inutile parlare di sistemi diversi che approcciamo quando poi il sistema nostro del penale è diverso l'elettore del PD a mio modo di vedere anche riguardo la reverse charge che è un modo per combattere l'evasione fiscale diciamolo però cioè è tutte le cose che avete detto ma è anche un modo per combattere l'evasione fiscale che è molto sull'IVA è molto sull'IVA che non si versa questo governo ha messo 3 miliardi e 8 in legge di stabilità può stare tranquillo secondo me l'elettore del PD la direzione è giusta però intanto fa pagare alle aziende che devono finanziare l'IVA in questo modo come abbiamo visto e corre il rischio introducendo questo provvedimento si corre il rischio che appunto i produttori soprattutto quelli di materie alimentari di prodotti alimentari vadano a rifornirsi altrove insomma ma anche sul tema della delega fiscale è vero che c'è la delega fiscale ma è vero che poi il Parlamento non avrà la possibilità di intervenire modificando quindi di fatto o lo fa il governo e ha promesso di farlo ma come abbiamo capito forse non ha intenzione di farlo oppure altrimenti questo provvedimento andrà esattamente così come è stato disegnato questo è il vero tema cioè il tema che su un argomento come questo non c'è stata alcuna discussione perché noi abbiamo visto che è stato varato il 24 di dicembre con un decreto con molta fretta senza alcuna preparazione tanto è vero che persino gli stessi ministri non ne erano conoscenze la delega fiscale è un po' vecchia forse il ministro Lupi glielo potrà dire ma la situazione sta per scadere sta per scadere quindi il decreto serve molto rapidamente si poteva fare anche prima vero c'è stato un anno forse per farlo bisognava aspettare il pomeriggio il pomeriggio del 24 dicembre con un documento che i ministri non avevano letto si poteva fare prima siamo d'accordo sul fatto che c'era fretta con i ministri che non avevano letto quindi l'hanno fatto questo non credo i ministri lo potranno dire questo è successo tutti quanti lo sappiamo si chiamano i minimi dell'IVA ce ne parla Gilles De Verri questa strada tutta Curve Pecore porta a Bosa 8000 abitanti in provincia di Oristano lui si chiama Carlo ha 34 anni e di mestiere fa l'insegnante di educazione fisica qualche mese fa a Carlo hanno proposto di fare una supplenza in una scuola di Genoni un paesino parecchi chilometri lontano da casa sono stato chiamato dalla scuola media a Genoni per la supplenza di un giorno 4 ore di lezione sono partito da Bosa sono passato per Macommer ho svoltato a Simagis Villa Urbana Escovedu sono andato a Laconi per la presa di servizio e poi a Genoni quanto dista Bosa da Genoni? andata e ritorno a 260 ho fatto 4 ore di viaggio per 4 ore di lezione Carlo però non si è arreso si è messo in macchina ed è andato a fare le sue 4 ore di lezione quando a più di un mese dalla supplenza ho chiamato la segreteria per chiedere come mai ancora non mi fosse stata pagata la segreteria imbarazzata mi ha spiegato che i tempi del tesoro sono lunghi e che la somma che dovevo percepire era veramente ridicola quanto? 14 euro e 10 centesimi lordi che netti sono? circa 10 euro dai quali poi vanno tolti i soldi che spenderò per spedire via raccomandata il contratto alla scuola e ora Carlo è di nuovo in viaggio altra supplenza altri chilometri questa volta a Meana Sardo lì faccio 8 ore vado 3 volte alla settimana ogni volta faccio 2 ore di macchina andare tornare per la stessa paga se il lavoro nel pubblico non è tutto rose e fiori anche chi ha deciso di far da sé non se la passa bene perché la legge di stabilità ha cambiato il regime dei minimi per le partite IVA prima si pagava un'imposta sostitutiva del 5% il limite massimo di ricavi era 30 mila euro l'anno e potevo rimanerci 5 anni e fino ai 35 d'età oggi non ci sono più limiti di tempo ma l'imposta è triplicata al 15 mentre la soglia di reddito cambia in base all'attività e chi ci è andato peggio sono i liberi professionisti per loro è stata abbassata a 15 mila euro chi decide di entrare dal primo gennaio 2015 in questo regime generalmente paga sempre maggiori tasse rispetto a quelle che pagherebbe normalmente conviene il regime ordinario solamente per quelle attività che possono superare i 35 mila euro cominciano ad esserci dei timidi benefici e anche se il governo ha promesso che cambierà le norme sui minimi Lucrezia e Ilaria si stanno già facendo i conti loro hanno aperto la partita IVA e lavorano come wedding planner organizzano matrimoni noi abbiamo la partita IVA al regime dei minimi quindi con la tassazione al 5% quando questa ci scadrà abbiamo fatto un po' di conti l'idea di passare a quella del 15% in realtà non ci conviene molto ci saranno da pagare all'incirca 500 euro in più all'anno tant'è che potrebbe convenirci rimanere alla tassazione ordinaria questo regime delude proprio tutte quelle persone che si vogliono mettere in gioco che con entusiasmo cercano di inventarsi nuove attività pochi minuti perché abbiamo bisogno di poca pubblicità ma poi ripartiamo dai minimi e dalle pensioni pochi minuti perché è tutto legato guardate il cartello 14 le tre maggioranze di Matteo Renzi allora governo PD tutto insieme AP non saprete era un nome area popolare area popolare ecco vede per fortuna parte di AP è qui poi scelta civica più altri 394 voti alla Camera 179 al Senato per le riforme PD senza dissidenti più Forza Italia 434 comunque un'altra maggioranza quella del Quirinale è il PD unito più SEL tre maggioranze e i tempi che si avvicinano non sono semplici perché guardate ad esempio cartello 15 il job act i prossimi prossime tappe allora nuovo articolo 18 e nuova aspi già barati al governo a fine febbraio è prevista la firma del Quirinale sfoltimento dei contratti incentivi per assunzione imprese tutela della maternità varo previsto nel Consiglio dei Ministri questo mitico del 20 febbraio nuova agenzia per l'occupazione riordino cassa integrazione controlli a distanza ancora da varare e a questo si aggiunge cartello 13 che i pensionati sanno bene che pensioni più magre inizio anno perché? perché sono stati decurtati gli assegni di gennaio e febbraio 12 euro in meno ogni 1000 euro di pensione per il conguaglio sulla rivalutazione perché quando l'inflazione sale viene rivalutata in positivo se come in questo periodo c'è meno inflazione in quella che è stata prevista vengono tagliate le pensioni e allora e allora è Gilles Deverie 2012 viene approvata la riforma Fornero e si inizia a parlare di esodati ovvero quelli che hanno lasciato il lavoro pensando che la pensione fosse lì dietro l'angolo e che con l'aumento dell'età pensionabile si sono trovati senza stipendio e senza pensione tre anni dopo il termine è nelle enciclopedie ma il dossier che li riguarda è ancora aperto Antonio lavorava in una fabbrica di Porto Marghera ora suona la tastiera guarda il calendario e aspetta io sarei dovuto andare in pensione dopo aver fatto tutti i conteggi dall'1-1-2014 che adesso invece quando andrà in pensione non lo so anche Fabio si è trovato senza via d'uscita lui aveva firmato un accordo con la sua azienda pensava di andare in pensione pochi mesi dopo e invece con la manovra Fornero il sistema delle quote è stato cancellato quindi io ad oggi posso andare in pensione quando avrò 66 anni e 11 mesi quindi a fine 2020 mia moglie lavora per fortuna e quindi abbiamo almeno uno stipendio della casa arriva e poi stiamo erodendo quei risparmi che avevamo messo da parte che nei nostri piani dovevano essere utilizzati per dare una domanda per il futuro di nostro figlio questa lavoricchia ma non vende niente questa qua è chiusa qui era un indotto 5.000 persone che lavoravano saranno 1.500 quelle che ci sono rimaste adesso la fabbrica di ceramica in cui lavorava Mario ha chiuso negli anni della crisi e dal 2012 lui è in mobilità tra qualche mese non avrà più nemmeno quella ma non potrà neppure andare in pensione io adesso prendo 800 euro di mobilità vive con 800 euro è difficile la paura mia è quella cioè che io finisce adesso a fine anno la mobilità quel piccolo cruzzoletto che avevo da parte l'ho finito occorrono attualmente 42 anni e 10 mesi e non ho coperture la legge Fornero ci ha non penalizzato di più io ho 61 anni se vado a chiedere lavoro mi dicono no sei vecchio però per andare in pensione sono troppo giovane nella stessa situazione c'erano e ci sono migliaia di persone e così è iniziato il balletto delle cosiddette salvaguardie la prima la seconda la terza la quarta la quinta e la sesta se rientro in una salvaguardia posso andare in pensione con le regole che c'erano prima della Fornero i requisiti per poter accedere alle sei salvaguardie sono due il primo è quello dei contributi il numero dei contributi che ho versato nel tempo esattamente il secondo è quello della cessazione ovvero la data riuscita dal lavoro ma starci dentro non è facile per niente e a quel punto parte la lotteria perché non è finita qua devo aspettare il monitoraggio che viene fatto da Roma per cui io potrei rientrare fra il numero massimo di unità prevista per quella categoria ma anche no e quindi a quel punto siamo appunto a capo e quando Antonio Fabio e Mario andranno in pensione potrebbero avere un assegno previdenziale più basso perché i contributi che avrebbero dovuto versare in questi anni di attesa li hanno usati per vivere per il 2013 avrei dovuto pagare 2013 2018 2013 2013 2013 per il 2014 2003 44 2003 44 2003 44 ma se io pagavo questi corsi qua come campavo a me l'affitto chi me lo paga le bollette come campo in questi anni come ha campato con la mia liquidazione ma adesso sono agli sgoccioli non ne ho più e questo è il quarto anno che sono senza senza stipendio e senza reddito chi vuoi che mi assuma 63 anni l'Inps è l'ente che eroga gli ammortizzatori sociali la malattia la maternità la desoccupazione il bilancio dell'Inps ha sentito molto gli effetti della crisi l'incidenza della spesa pensionistica è legata alla crescita è legata alla crescita del PIL camminiamo sul tapirulà dell'economia Maurizio Landini a qua il ministro delle infrastrutture uno dei ministri più importanti dal punto di vista della linea economica del governo nelle prossime settimane nei prossimi giorni fisco lavoro e pensioni sulle pensioni credo che bisognerebbe rimettere mano a ciò che è stato fatto quella non è una riforma quella è stata fatta per far quadrare dei conti siamo il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa siamo il paese che ha cancellato le pensioni d'anzianità con la storia che l'aspettativa di vita è aumentata si sono cancellate tutte le differenze non è vero dipende dal lavoro che fai e sei di fronte al fatto che questa riforma non ha affrontato i nodi quindi la prima è ridurre l'età pensionabile anche perché è aumentata la disoccupazione giovanile anche per questo secondo ripristinare delle pensioni che riconoscono la grossità dei lavori poi bisogna affrontare le diversità perché quando sentivo prima il bilancio dell'Inps andiamo a vedere quali sono i fondi che sono in perdita perché se tu prendi quelli dei lavoratori dipendenti e quelli dei lavoratori precari non sono in perdita tu hai in perdita i fondi dei dirigenti di impresa che sono tra quelli che perdono maggiormente che prendono le pensioni più alte hanno il fondo in perdita e sono entrati in Inps così loro le pensioni le pagano gli altri hai le pensioni che riguardano i fondi del lavoro autonome dei coltivatori diretti e quindi se si vuole affrontare così come le do dei dati in Italia c'è solo il 67% che ha una pensione c'è il 25% che ce n'ha due c'è un 8% che ce n'ha tre di pensioni non è mai stato messo un tetto alle pensioni quindi quando si vuole fare un ragionamento serio gli esodati perché nascono non è che sono nati dal nulla nascono perché improvvisamente tu hai allungato l'età pensionabile a tutti di 6, 7, 8 anni cioè una follia pura che non sta in piedi allora questo tema delle pensioni della sua riforma deve mettersi in mano ridurre l'età pensionabile introdurre una flessibilità d'uscita senza penalizzazioni se il metodo è contributivo pensa alla contraddizione uno dice uno prende in base i contributi che ha versato però ci mettono anche un tetto che fino a una certa età non puoi uscire ma chi l'ha detto se è legato ai contributi che verso deve esserci anche la possibilità di scegliere di uscire senza penalizzazioni van ripristinate le pensioni in più va messo anche un tetto alle pensioni d'oro vanno fatte anche una serie di operazioni che diano il senso molto concreto di intervenire lei sa che ora il grosso dello scontro politico soprattutto i problemi all'interno della maggioranza che verranno dalla sinistra del PD ci sarà sul Job Act che è uno degli elementi su cui più si è qualificata la linea politica di MC ora le sto facendo fare un riassuntone poi parliamo argomento per argomento parli con il ministro Lupi del Job Act a parte che l'hanno già votato e le commissioni hanno solo un potere consultivo e quindi mi sembra che stiano ragionando semplicemente per fare i decreti di modifiche lì non mi pare che ce ne siano se non qualche buon intuito è un buon intuito mi sono informato prima per evitare di dire cose inesatte ecco io penso che sia una pessima riforma perché questa idea di cancellare lo statuto dei lavoratori vuol dire mercificare i rapporti di lavoro io faccio un esempio si dice che adesso con questo Job Act ci sarà l'assunzione a tutte le progressive che è una presa in giro perché l'assunzione a tempo indeterminato determinerà che tu le tutele non ce le hai cosa succede a questi lavoratori avrai le imprese che assumono gli danno fino a 8 mila euro di soldi di sgravi e questo lavoratore si troverà che se per caso viene licenziato mentre adesso ci voleva una giusta causa se io fossi licenziato e non c'è una giusta causa vado in tribunale dicono che ho ragione che il licenziamento era falso ciò che l'azienda ho diritto a ritornare al posto di lavoro d'ora in avanti per tutti quelli nuovi assunti che con questa forma pagata con i soldi nostri se per caso l'imprenditore lo licenzi anche se non è giusto anche se il giudice dicesse l'imprenditore ha torto il lavoratore viene l'assiato a casa e gli danno un po' di soldi e addirittura cosa succede che a quel punto lì nell'impegno si dice che allora deve essere lo Stato che ricolloca quel lavoratore lì io la trovo una follia pura perché non solo tu mercifichi il rapporto di lavoro ma addirittura un imprenditore che ha licenziato ingiustamente e quindi che non poteva farlo anziché riassumerlo lascia a casa e poi il problema di ricollocare i lavoratori viene caricato sulla collettività generale Maurizio Lubi allora partiamo da qua dal lavoro dopo l'Ascania partiamo dal lavoro e c'è un aspetto del discorso di Landini che suona male perché c'è anche licenziamenti collettivi non solo gli individuali c'è un aspetto che suona male il fatto che uno abbia degli sgravi quindi magari con quegli sgravi metta da parte i soldi per dare i soldi che darà al lavoratore quando lo manderà via quindi è il governo che fa sia l'assunzione che l'indennizzo sempre colpa del governo ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni fatte adesso e durante il periodo precedente lavoro innanzitutto a proposito del contributo determinante della presenza del nuovo centro-est al governo che ha bloccato una parte della sinistra del Partito Democratico noi partiamo da un principio banalissimo e poi vediamo i risultati il lavoro lo fa l'impresa dobbiamo mettere nelle condizioni l'impresa di tornare a essere sul mercato e a produrre non ho mai visto credo le andini un imprenditore nella mia vita non l'ho mai conosciuto piccolo grande medio che pensa che non sia una grande risorsa il lavoratore che ha io conosco decine centinaia di imprenditori in Brianza dove sono che prima di licenziare una persona che è la sua risorsa fanno ci impiegano vent'anni trent'anni sono lì perché il punto è che l'impresa si regge sulla primo capitale che ha che è il capitale umano allora i primi risultati del jobs act che sono fatto di due temi un decreto legge che è stato fatto e adesso la legge deleghe e i decreti delegati sono nel mese di dicembre per la prima volta iniziamo ad avere un'inversione di tendenza nelle assunzioni abbiamo centomila assunzioni secondo dato importante per la prima volta nel nostro paese per la prima volta scusate io guardo i dati per la prima volta nel nostro paese nel 2015 però io ho ascoltato poi potete anche contraddire per la prima volta nel 2015 diminuisce diceva che non ci sono state queste assunzioni no non è effetto del jobs act si usurano no no perché voi vi state sbagliate perdonate quindi loro dicono come fa ad essere l'effetto del jobs act se entra in vigore da gennaio perché il provvedimento come Landini ben sa mette buon umore no no Landini ben sa è stato diviso in due parti un decreto legge che ha introdotto più flessibilità sulle assunzioni a tempo determinato a giugno dello scorso anno una legge delega che entrerà in vigore con i decreti delegati quindi non ci può essere niente posso dire solo una cosa su questo allora Lupi non sta dicendo una cosa sbagliata è due parti decreto Poletti che diciamo dovrebbe incentivare i contratti a tempo determinato jobs act dovrebbe incentivare quelli a tempo indeterminato a tutte le crescenti quelli del decreto Poletti non sono i posti di lavoro stabili quindi lì si misura soltanto se uno passa da CoCoCo a tempo determinato che è un piccolo miglioramento ma la vera misura è a gennaio se le imprese avranno aspettato hanno assunto poco tra ottobre e novembre e dicembre aspettando la riforma potremmo fare l'interiore discussione perché nel decreto dice no ma solo per i dati quando i dati erano cattivi a novembre il governo ha detto è perché le imprese stanno aspettando il jobs act quando dicembre erano migliorati hanno detto no hanno assunto già in anticipo sulla fiducia del jobs act quindi a sto punto aspettiamo i dati di gennaio lei mi ha fatto ascoltare posso rispondere innanzitutto guardiamo un dato positivo per la prima volta per la prima volta c'è un'inversione di tendenza sulle assunzioni colpa mia merito mio colpa sua merito suo parto da un dato oggettivo poi potremmo discutere a lungo sul decreto di giugno che lei sa non è solo il tema del passaggio a tempo determinato più flessibilità cioè il tema inutile discutere qui seconda cosa nel 2015 lo diceva prima Landini diceva abbiamo la pressione fiscale più alta verissimo per la prima volta diminuisce la pressione fiscale un provvedimento per le imprese certamente e anche per le famiglie ma no mi scusi diminuisce la pressione fiscale o no se io vado e faccio i lavoratori dipendenti pensionati lei mi ha fatto una serie di richieste le vorrei rispondere come lei fa una formazione la mia è una domanda ho capito se lei mi fa finire per la prima volta le imprese tutte le imprese piccole, medie e grandi non pagheranno quella maledetta e vergognosa componente IRAP sul lavoro era il paradosso peggiore dei paradossi assumevi la tua risorsa la prendi gli paghi le tasse sono 6 miliardi di euro l'impresa da 11 dipendenti 15 mila euro che risparmia se lo moltiplica se hai 100 dipendenti 150 mila euro è un provvedimento ancora non sufficiente poi bel pietro ultimo elemento mi scusi per quanto riguarda i regimi minimi se no avete fatto prima un servizio di altro condiviso e qui abbiamo una persona che si è assolutamente poi su questo già altre volte impegnata quando si sbaglia su una cosa bisogna riconoscere che si è sbagliato questo tema e il servizio che voi avete previsto è vero penalizza innanzitutto i giovani penalizza coloro che vogliono andare nel mercato di lavoro ed essere protagonisti e quindi già nel mille proroghe lo cambieremo perché ci sono emendamenti presentati dai gruppi parlamentari che vanno nel ripriso questo è un'altra notizia allora Landini due cose e naturalmente c'è pronto Pagnoncelli col soldato una sulla cosa dell'ira perché siccome buona parte di quei soldi lì servono a pagare il servizio sanitario io non vorrei trovarmi che tra un po' mi spiegano che pagano meno io vorrei sapere dove le vanno a prendere sul servizio sanitario perché se poi dopo ho degli altri tagli e mi trovo che le regioni aumentano la tassazione per non tagliare altri servizi gli chiedo chi è che paga meno parte visto che in questi anni non abbiamo fatto una cosa positiva inserisco informazioni da parentesi per un lavoro lei ha fatto un esempio lei ha fatto un esempio vorrei le imprese lavoro intensi ma io quello che sto dicendo è un'altra cosa che oggi le imprese in questi anni le imprese non è che non hanno assunto perché non c'era il job act non hanno assunto perché non ci hanno da lavorare questo è un problema un po' più profondo e non hanno assunto mi scusi non è solo così non è solo così non hanno il lavoro e se anche volevi assumere non è vero come no guardi io conosco delle imprese magari le conosce altre il progetto giovani o il fatto che il governo Letta aveva fatto un provvedimento che dava soldi per chi assumevano uno va a vedere l'antecedente del progetto giovani che un'azienda anche se gli dai dei soldi ma del lavoro non ce n'ha non assume e oggi noi siamo di fronte al fatto e se fra tre anni sei in una situazione di crisi economica lo vuoi licenziare non lo puoi fare il job act adesso ti permette di farlo adesso si può licenziare se sei in crisi benissimo oggi si può licenziare tra l'altro si bancano riduzione degli ammortizzatori sociali una cessazione di attività non c'è più la cassa integrazione possiamo dire alcune cose oltre alla propaganda che è comprensibile ma non è vera fatelo parlare dai su vada vada mi posso? stasera sono tranquillo non voglio interrompere nessuno vada vada sono tranquillo però magari diciamo alcune cose vede lasciatemi fare questo ragionamento noi abbiamo dati alla mano adesso uno dice 100 più 100 no siamo di fronte a quasi 4 milioni di disoccupati e siamo un paese che ha 4 milioni di persone che non cercano neanche più lavoro siamo un paese che ha quasi il 50% di disoccupazione giovanile se andiamo al succe da mettersi le mani nei capelli perché è anche peggio e allora un problema di questo genere lo si affronta non se semplicemente lascio licenziare le aziende o gli riduco un po' le tasse perché se non c'è una domanda generale non c'è una ripresa degli investimenti pubblici e privati dei posti di lavoro non si creano e oggi una politica di questo genere non è stata fatta anzi siamo di pronti al rischio questo è quello che pensa lei per l'operazione scusi no sono i dati no ma come i dati che abbiamo in fronte obiettivamente 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 Landini dice quello che pensa lui adesso è anche quello che risponde l'Ascani tanto siete alleati quindi siete d'accordo e quindi il dato che non è vero no comincio da la facciare semplicemente la precarietà siamo tutti più precari dall'inizio delle cose che ha detto perché giustamente lei dice quello che pensa però ci sono delle cose non del tutto esatte intanto in questa legge di stabilità c'è il tetto alle pensioni no no su quello che ha detto oggettivamente lo penso davvero vuole correggere alcuni passaggi verso il tetto alle pensioni per la prima volta c'è in questa legge di stabilità lei sicuramente lo saprà è stata una vittoria anche del partito democratico che l'ha voluto seconda cosa non penalizzazioni a 62 anni lei sa di nuovo in questa legge di stabilità chi esce che non ha ancora 62 anni ma 41 anni e 6 mesi non avrà le penalizzazioni altra vittoria del partito democratico altra vittoria del partito democratico però diciamole perché lei dice le cose a metà giustamente invece c'è altra cosa che noi abbiamo detto abbiamo messo all'Inps Boeri che sicuramente lei conosce che ha fatto delle sue principali bandiere quella di mettere un contributo di solidarietà a quel 10% di pensionati che oggi percepisce il 27% totale delle pensioni cioè percepisce più di quanto effettivamente ha versato noi pensiamo che questo sia fattibile pensiamo che questo si possa fare in parte questo l'ha fatto Letta nella legge di stabilità nel 2014 Letta oltre i 90.000 ci sono già no si può fare ancora di più recuperando altre risorse lei si legge Boeri si legge la voce questo c'è queste sono le cose sulle pensioni pensate di dare un taglio alle pensioni più noi pensiamo che per riequilibrare il peso complessivo questa possa essere un'opzione sul 27% dopo di che la cosa veramente fondamentale è che ha detto Poletti quello che ha detto Poletti aspetti Landini però Landini parlare così è veramente complicato lei ha parlato adesso le dico domande precise io rispondo adesso arrivo lì Poletti ha detto allarme sociale non devono attendersi il taglio del 10% della pensione no no fermi fermi io ho detto coloro che oggi percepiscono no 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 non ci siamo capiti sui numeri oggi c'è un 10% di pensionati che percepisce il 27% del totale delle pensioni pensate di tagliare questo è un'opzione è un'opzione un'ipotesi per far sì che chi riceve la pensione minima oggi sia un po' aiutato questa è l'opzione Boeri in realtà quella che Boeri ha sempre difeso e la fate vostra ma questa è l'opzione Boeri io dico che lì oggi all'Inps io dico che ho già l'Inps e c'è quella persona lì quindi quello che dice Landini questo governo diciamo che non l'ha di tutto strano seconda cosa Poletti ha detto una cosa chiara ed io spero che arrivi perché quando si è parlato di forma Fornero anche a sproposito per il referendum della Lega ha detto la flessibilità è una cosa che deve essere presa in considerazione perché rischiamo l'allarme sociale io credo che questo sia chiaro a tutti quindi credo che quella flessibilità Damiano parla di quota 100 cioè che la somma tra contributi non pensi che uno deve anticipare lui quello che prende ho già visto quelle proposte lì questo è quello sulle pensioni posso dire una cosa su Jobs Act a proposito dell'imposto no parlare così è veramente difficile Jobs Act il licenziamento discriminatorio resta il licenziamento disciplinare per la non sussistenza del fatto resta cioè quando uno viene licenziato per motivi discriminatori o perché il fatto non sussiste viene reintegrato sul posto di lavoro quando la CGL dice che questo non è vero dice una falsità poi parliamo dei minimi magari perché l'altra cosa sono i minimi però diciamo la verità no questo è scritto nel regreto delegato questo è pura il tema delle pensioni a parte che l'addizionale già è stata ripristinata due volte nella prima volta è stata cassata dalla Corte Costituzionale fra l'altro Corte Costituzionale di cui faceva parte l'attuale Presidente della Repubblica e quindi oggi mi risulta che il tesoro stia restituendo ai pensionati a cui era stata applicata questa addizionale stia restituendo con gli interessi non quella della legge di stabilità del 2014 non quella della legge di stabilità di Letta non quella del 2014 quella precedente perché poi arriva Letta è replicabile perché è legittimo legge legittimo si vedrà perché la Corte Costituzionale su questo non è intervenuta quali sono le pensioni che devono tenere questo eventuale taglio ma innanzitutto proprio Boeri fece un calcolo su questa materia e allora all'inizio si era detto addirittura 2000 euro di pensione era stato ipotizzato ma evidentemente non è una pensione d'oro una pensione di 2000 euro e quindi era stata smentita dopodiché si è parlato delle famose pensioni d'oro che però sono una porzione così ristretta che lo stesso Boeri fece dei calcoli e non serve a niente per finanziare dobbiamo pagare un po' tutti dobbiamo pagare un po' tutti perché altrimenti non si raccolgono dei soldi sufficientemente necessari per finanziare le pensioni al minimo fra l'altro piccolo problema sul tema delle pensioni che è stato argomento di discussione già del governo vi ricorderete che sei mesi fa grosso modo il ministro Poletti parlò di questo provvedimento e fu smentito dal presidente del consiglio ve lo ricorderete ma ritorniamo ai grandi numeri su 16 milioni e mezzo di pensionati ci sono circa 8 milioni e mezzo che non hanno raggiunto il livello per ricevere la pensione non hanno i contributi minimi addirittura 5 milioni sono praticamente pensioni sociali quindi vuol dire che a carico dell'Inps c'è una montagna di persone che non hanno pagato la pensione questa è la verità non diciamo la gente andiamo a vedere il maggio ma se sono quei milioni che non hanno pagato come ha vissuto la rete in questi giorni di Cristina Bambino giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne realmente la Costituzione Mattarella è presidente Renzi sprizza felicità contagiosa infatti qualcuno fa notare l'anagramma di Mattarella è Matteo si rallegra non tutto è andato liscio da subito però Enzo Iacchetti Ezio Greggio Barbara D'Urso Luigi Faramonti detto Gigino e dopo l'avvincente romanzo Quirinale che ha visto le consultazioni di Renzi lo schema di Vespa e il sacrificio supremo dei giornalisti di Palazzo Montecitorio c'è la nostra Alessandra Sardoni si vede la brandina in cui ha dormito sullo sfondo il risultato atteso è arrivato subito su Twitter sono entrati in azione i profili fake del presidente che si chiede posso sciogliere solo le camere o anche l'Inter poi si accorge mi hanno applaudito un sacco pur di non farmi parlare e si presenta ho la giacca larga e un poco di gobba davvero democristiano e per Twitter Mattarella è così buono che il Papa sta già rosicando e così mentre c'è chi pensa che il Nazareno sia morto Spinoza suggerisce di aspettare tre giorni insomma tutti contenti? ma vaffanculo me l'ho giocato Magalli un'effete di potere un istinto animale tutto questo è romantico urinale me l'ho giocato Magalli allora Nando Pagnoncelli agli italiani piace Sergio Mattarella presidente della Repubblica sì il primo riscontro che abbiamo avuto ieri sera prima quindi del discorso insediamento oggi è decisamente positivo lo vediamo con il cartello 1 68% esprime gradimento per il presidente Mattarella 18% no 14% non si esprime non è un dato scontato perché solo una settimana fa il presidente Mattarella risultava quello meno conosciuto tra i nomi di cui si parlava come possibili candidati per il Quirinale e poi mi pare che sia andato un po' meglio di Napolitano all'esordio un po' meno bene di Ciampi giusto? lo vediamo subito con il cartello 2 proprio il primo sondaggio dopo l'elezione di Ciampi il presidente Ciampi ottenne 72% di gradimento però era già molto conosciuto era stato governatore della Banca d'Italia presidente del Consiglio ministro dell'economia il presidente Napolitano 66% di gradimento Mattarella un po' meglio 68% Matteo Renzi alla fine è uno smaliziato politico oppure un giovane rottamatore per gli italiani? permane un'opinione prevalente che sia un rottamatore che sia un politico di nuova generazione un politico moderno cartello numero 3 lo vediamo il 50% la pensa così però c'è una robusta minoranza il 44% che sulla base probabilmente anche di quanto è avvenuto per l'elezione del presidente della Repubblica pensa che sia un politico furbo di vecchio stile allora chi ci guadagna dei partiti e chi ci rimette dopo l'elezione di Mattarella? ma ci guadagna prevalentemente il partito democratico tutto il resto del quadro è sostanzialmente simile lo vediamo rapidamente con il cartello numero 4 il partito democratico nell'intenzione di voto è al 36% due settimane fa era al 34,6% al secondo posto si conferiva il Movimento 5 Stelle col 20% Forza Italia 14% ma incalzata dalla Lega Nord col 13,8% e poi Selle col 4% se andiamo al cartello 5 vediamo gli altri partiti Fratelli d'Italia 3,5% Nuovo Centrodestra 3%, Udc 1,8% Rifondazione 1 altri 2,9% il 35% dichiara di volerci astenere o non saprebbe proprio per chi votare diciamo che non è cambiato sostanzialmente nulla qualche decimale l'unica eccezione come dicevo è la crescita del partito democratico che si è ricompattata oggi è arrivato Tsipras a Roma gli italiani piace o no il piano di Tsipras? ma l'annuncio che ha fatto di voler rivedere diciamo le regole europee soprattutto di ristrutturare il debito in realtà suscita reazioni abbastanza controverse con il cartello 6 lo vediamo tenuto conto del fatto che comunque anche l'Italia è creditrice nei confronti della Grecia per circa 40 miliardi indubbiamente diciamo tutto ciò suscita reazioni negative il 44% ritiene che sia scorretto rinegoziare il debito soprattutto appunto perché deve restituire soldi anche al nostro paese che non versa certo in buone condizioni 23% pensa che invece fa bene dovrebbe farlo anche l'Italia tentativo di rinegoziare il debito a ridefinire le regole comunitarie 23% invece pensa che sia soltanto uno slogan che poi alla fine deciderà la troica allora riprendendo le fila del nostro discorso nei prossimi giorni ci saranno due temi fondamentalmente che detteranno le giornate politiche il primo è quello della legalità e ora parleremo con Sergio Cofferati e Giuliano Ferrara proprio di legalità poi c'è il tema dell'economia e verrà Carlo Cottarelli a spiegarci come vanno i nostri conti e che cosa il governo Renzi effettivamente ha fatto e cosa c'è da aspettarci nei prossimi giorni e quindi tireremo le fila di tutto il nostro discorso con Eugenio Scalfari adesso pochi minuti di pubblicità e poi Cofferati e Giuliano Ferrara e grazie i nostri osti adesso parleremo di legalità con Sergio Cofferati e Giuliano Ferrara poi di politica con Eugenio Scalfari quindi di economia con Carlo Cottarelli insomma tutto quello che bisogna sapere ma per parlare di legalità con Cofferati e Ferrara dobbiamo partire dal capire cos'è successo e cosa sta succedendo in Liguria Simone Carolei questa discarica è stata chiusa di recente per un'inchiesta della magistratura per violazioni ambientali a partire da questa parte d'inchiesta è venuto fuori anche un grosso scandalo di corruzione corruzione in cambio di appalti l'inchiesta AMIU è solo una delle ultime vicende giudiziarie che hanno riguardato la Liguria pochi giorni fa sono stati concessi gli arresti domiciliari a Gino e Vincenzo Mamone arrestati nell'ambito di questa indagine hanno dati i domiciliari a Mamone? non so neanche chi sia Cino Mamone è un imprenditore di origine calabrese che negli anni è diventato molto potente ha sempre avuto molti lavori pubblici e ha avuto molti contatti con la politica a gennaio è arrivata la sentenza di un'altra inchiesta la svolta il tribunale di Imperia ha condannato 27 persone a 200 anni di carcere al centro delle indagini anche qui politica e criminalità qui siamo nel quartiere Certosa in un gazebo allestito in questa piazza si è votato per scegliere il candidato governatore del PD alle prossime elezioni regionali quando hanno fatto le primarie viene a votare viene qua dì la tua figlia era un amico quello che mi ha detto sai qua là perché ci avevo chiesto se faceva entrare mia figlia c'è un'indagine in corso per appurare eventuali irregolarità nel voto lo scrutatore che avrebbe visto come sono andate realmente le cose non può parlare a me è stato riferito che sono arrivati un gruppo di persone a votare tutti insieme accompagnati da un personaggio che qui a certo modo conosciamo benissimo che è Umberto Lograsso Umberto Lograsso è un ex consigliere comunale dell'Italia dei Valori rinviato a giudizio per raccolta di firme false ma guardi non voglio parlare perché sono tutte in azione e non c'è niente da aggiungere le polemiche riguardo il corretto svolgimento delle primarie hanno coinvolto due esponenti del nuovo centrodestra Alessio Sasso e Eugenio Minasso Alessio Sasso è indagato per promesse elettorali l'accusa è di aver chiesto voti a un boss dell'Andrangheta che poi è stato condannato vent'anni questa è una pagina molto dolorosa della mia vita perché io non avevo mai ricevuto nessun avviso di garanzia c'erano anche delle intercettazioni parlava con un boss dell'Andrangheta parlavo con delle persone che successivamente sono state individuate come appartenenti dell'Andrangheta Eugenio Minasso anche lui nel centrodestra è stato eletto in Parlamento la cosa più imbarazzante che emergeva su di lui che non ha mai portato a debiti penali era una foto che lo ritraeva abbracciato con uno dei boss della famiglia Pellegrino altra famiglia dell'Andrangheta di Bordighera sono la prima ad aver chiesto chiarezza per quanto riguarda il risultato delle primarie so che ci sono in corso delle verifiche da parte della magistratura e mi auguro che venga fatta quanto prima chiarezza Allora bentornati di martedì e bentornato a Giuliano Ferrara che è stato già con noi e a Sergio Accooperati buonasera deputato europeo ex segretario generale della CGL ed ex PD ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa Giuliano Ferrara lei chiedesse fatto delle ragioni e dell'abbandono di Sergio Cofferati ma io stima di Cofferati perché è stato un grande sindacalista dei chimici categoria operaia evoluta firmava contratti non era un chiacchierone non era un parolaio come sindacalista poi è stato un capo della CGL insomma sembrava come come lo vedete adesso un eroe delle termopili faceva delle battaglie di arresto terribili con delle corazze delle armature anzi al termine del suo famoso comizio del Circo Massimo c'era un corteo io stavo andando al foglio uno mi si avvicinò uscendo dal corteo dove non ero proprio popolarissimo e mi disse maiale 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 è stato un'Italia vera e importante non ho più capito le sue mosse da leader politico quando era il momento di cercare di prendere la guida del suo partito di allora che era il protopartito democratico in nome di un'idea laburista di sinistra laburista come quella che adesso sta avendo molto successo in Grecia eccetera però non una cosa non un castro mediterraneo una cosa seria moderna non lo fece si fece un po' disfare il suo progetto dalla vecchia nomenclatura del PC dai D'Alema dai Veltroni dagli altri che dissero no la politica è un campo riservato a noi allora andò a Bologna a Bologna ha fatto alcune cose molto importanti e buone insomma di ordine di razionalità però poi si è innamorato è andato a Genova ho avuto un figlio e allora poi dopo a Genova è rimasto così poi dopo ha fatto il deputato europeo poi adesso voleva fare il presidente della regione mi disorienta diciamo la stima resta ma il disorientamento è enorme allora Sergio Cofferati arriveremo poi al PD di oggi al rapporto con Matteo Renzi ai temi della legalità però dice Ferrara politicamente si è perso ma io ho fatto le cose che pertenevo in quel momento nel momento dato utili per la parte che rappresentavo per le persone che avevano fiducia in me ho sempre pensato che la politica sia servizio non ho concorso a dirigere il PDS e poi il PDS all'epoca perché era utile posso aver sbagliato ma secondo me era utile che io facessi il segretario della CGL i tempi non collimavano ma c'è una perdita di sintonia tra la politica espressa da Sergio Cofferati e la politica del PD di Renzi o no? beh sì sono due cose molto alternative sono alternative poi possono convergere su certe questioni ma Cofferati esprime un'idea di sinistra di movimento dei lavoratori un'idea anche dell'Italia mi pare e della della sua struttura sociale dei doveri dello Stato delle libertà degli individui dentro i mercati aperti e globalizzati assolutamente diversa e opposta da quella che insomma sembra di capire sia l'idea di Matteo Renzi dopodiché dopodiché la legalità certo è una grande questione però io volevo provocare un po' Cofferati dicendogli questo John Kennedy John Kennedy è stato eletto presidente degli Stati Uniti con i brogli fatti a Chicago dalla mafia democratica che insomma la politica certo deve essere trasparente una casa di vetro sono cose che ci ripetiamo sempre un po' per consolarci un po' perché a forza di ripeterle forse qualche passo in direzione alla trasparenza si farà ma insomma che qualche cinese e qualche elettore improprio si reghi ai seggi può succedere insomma non starei a farne un casino così grosso addirittura uscire dal partito ma uno fa una battaglia ci sono i propri diri le commissioni le cose eccetera e poi la volta prossima insomma la volta prossima ti organizzi meglio ecco Sergio no no guarda adesso Renzi ha liquidato le sue dimissioni dicendo sembra un bambino che ha perso e se ne va portando via il pallone no con tutto il rispetto dei miei conterranei cinesi il tema non è quello il tema non è il voto pagato non il voto libero degli stranieri che gli stranieri vadano a votare va bene è un po' singolare che votino ragazzi di 16 anni che poi non hanno la possibilità di votare alle elezioni successive ma diciamo che è una bizzarria del regolamento delle primarie primarie che non ci sono più dopo la Liguria comunque dovranno essere cambiate se si vuole mantenere lo strumento no lì il problema è un altro ed è la ragione per la quale ho deciso di lasciare un partito che ho contribuito a fondare non senza difficoltà non senza dolore i distacchi quando si cambia strada hanno sempre un peso il problema che è scoppiato in Liguria in maniera clamorosa e non è finita il riverbero di questo problema riguarda in qualche modo la legalità voglio dire che io posso stare in un partito che ha opinioni diverse dalle mie ad esempio sui temi del lavoro potete immaginare cosa penso della cancellazione dell'articolo 18 però quando vengono messi in discussione i valori identitari di un partito io non ci sto più cos'è capitato in Liguria non era successo neanche in Campania dove vennero invalidate le primarie per tre seggi contestati non cancellati in Liguria sono stati cancellati 13 seggi c'è un'indagine dell'antimafia c'è un'indagine della procura è oramai evidente che c'è un rapporto tra il mio ex partito e degli interlocutori del centro-destra che sono a loro volta in rapporto con la criminalità organizzata c'è una sentenza c'è una sentenza del Tribunale di Imperia su un processo chiamato la svolta che sancisce la condanna di 27 persone a oltre 200 anni di prigione per reati di mafia nel testo scritto da quel Tribunale è riportato che alcuni esponenti politici sono stati costantemente in rapporto con quella criminalità hanno chiesto cioè voti Kennedy non credo in quella forma in una forma assolutamente inedita c'è nei voti sono due persone rappresentanti in Liguria del partito del nuovo centro-destra ex fascisti non pentiti dico sempre ma questo è irrilevante oggi sono in relazione con la criminalità organizzata l'hanno scritto i magistrati il mio partito interloquisce il mio ex partito interloquisce con queste persone che hanno offerto i loro voti e dato i loro voti alla mia concorrente delle primarie per fare poi con lei un governo non è un mio sospetto lo hanno detto pubblicamente e la politica o ha un fondo di ragione se il rapporto è questo tra il PD o alcuni dirigenti del PD adesso non voglio essere ingeneroso alcuni dirigenti del PD persone che sono in rapporto con la criminalità organizzata e nessuno dice nulla beh io a quel punto non ci sto perché viene meno uno dei principi su cui si è io non non conosco la situazione in loco ma ovviamente devo fare fiducia al racconto di Sergio Cofferati il punto però secondo me non è che lui si sia arrabbiato questo è comprensibile ed è una rabbia politica motivata almeno con argomenti molto solidi il punto è perché portare la battaglia fuori perché rompere è una è una è una è una storia strana perché uno fa la rivoluzione dentro il PD chiede di essere sentito impone però se se ne va del PD suona che c'è anche dell'altro è questo che dice lei no no quella frase di Renzi è eccessiva quella cosa va via come non è che è arrivato che si porta il PD che ha mai consunto un rapporto col PD l'osservazione di Giuliano è legittima me ne sono andato perché mentre capitavano queste cose che sono durate un mese e mezzo dichiarate pubblicamente il segretario di questo partito addirittura ha detto quello che voleva fare cioè votare le primarie del centro-sinistra e far l'accordo con Raffaella Paita l'ha detto in consiglio regionale io ho segnalato al partito democratico nelle persone dei due vice segretari quello che capitava giorno dopo giorno gli mandavo le fotocopie dei giornali Liguri nessuno non è mai intervenuto anzi nessuno mi ha mai risposto pubblicamente se qui siamo a parlare di questa cosa cioè di come le primarie hanno perso natura è esattamente perché c'è stato un fatto ce n'era uno altrettanto efficace da consumare dentro il partito secondo me no Ferrati mi dica una cosa il PD avrà bisogno di voi o ormai basta che si guardi alla sua destra e ha degli alleati più simili culturalmente della sinistra che lei sta descrivendo ma io penso che questo paese abbia bisogno della sinistra di una sinistra di governo di una sinistra ragionevole ma dove i valori fondativi di quelle organizzazioni di un partito futuro di quel che sarà siano quelli della nostra storia una storia dove la solidarietà il rapporto tra le persone i valori che abbiamo ereditato e scritti nella Costituzione dal risorgimento alla liberazione il PD non si ritrova in questi valori il PD di Matteo Renzi il PD è un partito ondivago è un partito ondivago perché alcuni valori li ripete li indica salvo poi non essere coerente io non ho mica chiesto l'annullamento delle primarie in Liguria ho chiesto fermiamoci a discutere su quello che è successo nulla il nucleo della divisione però è politico ripeto Renzi ha deciso di giocare per sé per il suo partito e per il paese una carta di rinnovamento che ha come primo punto il cambio generazionale il licenziamento di una vecchia nomenclatura politica un confronto molto serrato con i sindacati che lui considera per una larga parte anche una remora corporativa a fare delle riforme importanti e insomma questo è un nucleo politico diverso da quello a cui si faceva scenno prima e che va guardato naturalmente con rispetto che è un'altra idea di Europa e d'Italia e che è quello di una sinistra diciamo antagonista rispetto ai meccanismi del sistema globalizzato Sergio Cofferati ma io credo nella mia vita di non aver mai sposato tesi antagoniste non me le sta attribuendo lui anzi ha detto esattamente l'opposto penso che il riformismo sia la pratica più efficace che si debba adottare per avere una sinistra che rappresenti dei valori e degli interessi però bisogna ripartire dai valori la definizione degli interessi e la politica sugli interessi da sola non basta troppe persone soprattutto i giovani non hanno più valori di riferimento io penso che lo sforzo da fare sia questo non cominciare a pensare ci mettiamo assieme per fare chissà che cosa cominciamo a pensare quali sono i valori in una società moderna alla quale una forza che si dice di sinistra deve fare riferimento se riusciamo a farlo faremo dei passi in avanti Sergio Cofferati Giuliano Ferrara noi abbiamo pochi minuti di pubblicità e poi ascoltiamo Eugenio Scalfari pochi minuti diamo il bentornato a Eugenio Scalfari buonasera benvenuto fondatore di Repubblica lo ringraziamo per essere tornato con noi nel giorno del giuramento del nuovo presidente della Repubblica le è piaciuto il discorso di Mattarella mi è molto piaciuto c'era qualcosa che non si aspettava o ha seguito un filo che prevedeva no direi di no perché lui io non lo conosco non l'ho mai visto di persona ah mai visto di persona no si vede che abbiamo battuto sentieri diversi ma io l'ho molto seguito però perché facendo il mestiere che facevo in particolare durante la prima Repubblica adesso il mio mestiere è un po' cambiato è salito di livello no si insomma ma lui ho seguito molto la sua carriera chiamiamola così prima ancora il suo il suo lutto che in qualche modo ha segnato la sua vita e ha determinato il percorso perché l'omicidio del fratello da parte della mafia l'omicidio del fratello da parte della mafia molti dicono che lui si è dato alla politica perché incoraggiato e dai locali dalla democrazia cristiana eccetera ma in verità da quello che io ho capito ricostruendo un po' questa vita sua lui si è dato alla politica perché ha detto io debbo continuare quello che mio fratello non è riuscito a portare avanti e quindi Sergio Mattarella ha preso il posto del fratello insomma ha continuato l'impegno civile e politico infatti nel discorso di oggi uno dei punti più importanti ma da lui poi c'era da attenderselo è stato quello sulla mafia la mafia e le mafie perché ai suoi tempi quando lui cominciò la mafia della Sicilia era la più forte di tutte l'andrangheta che adesso è quella forte a quell'epoca era una serie di tribù tribù nel senso che c'avevano un capo che non avevano collegamenti con le altre indrine come si chiamano invece la mafia era un vero potere che occupava la regione la mafia era l'indrina non aveva la cupola lei che idea si è fatto di Mattarella come persona non conoscendolo direttamente ma appunto seguendolo di Sergio Mattarella il presidente della Repubblica come persona che persona è secondo lei come persona mi è più difficile dirlo perché io non lo conosco ma però è una persona estremamente gentile questo posso dirlo con certezza perché ha anche fatto una telefonata a Repubblica al direttore insomma ringraziandolo per l'attenzione uno che fa questo non dovuta certamente ma poi si vede molto gentile e anche nel discorso lui non ha dimenticato nessuno nessuno che il discorso è stato molto breve perché le cifre ufficiali sono che il discorso è durato 32 minuti interrotto da applausi che sono stati una quarantina sono stati 40 ora chi l'ha sentito io l'ho sentito i 32 minuti comprendono anche gli applausi quindi gli applausi complessivi sono stati almeno 10 minuti quindi lui ha parlato per poco più di 20 minuti quindi sapeva cosa voleva dire ha detto tutto sapeva cosa voleva dire la porto un passo indietro sull'elezione di Mattarella dunque ha vinto davvero Renzi perché esistono due versioni una è quella che Renzi ha asfaltato tutti ha fatto un nome ha ricompattato il PD ha spiazzato Berlusconi Berlusconi è rotolato miseramente la seconda versione è che Renzi in realtà abbia subito il nome di Mattarella quindi una volta ha capito che non poteva mettere uno dei suoi ha cavalcato il nome che gli è stato dato dalla minoranza del partito ma non lo sente suo le di che opinione è no Renzi adesso dice perché Renzi è un personaggio notevole molto notevole in questo caso in particolare ha dimostrato ha fatto un capolavoro come tutti scrivono e ho scritto anch'io che di solito non sono molto tenero con Renzi ma qui il capolavoro l'ha fatto io ho una terza versione che non è queste queste due e cioè Mattarella era uno dei nomi che Renzi aveva in mente non era il solo ma era il più importante allora lui ha avuto un incontro con i dissidenti del suo partito i quali io credo che lui lo sapesse questo ma comunque io lo so ma non so nessuno i quali avevano intenzione se il nome fosse stato sgradito di votare insieme a Grillo e ad altri spezzoni il nome di Prodi ah Prodi per cui al primo secondo e terzo c'era il nome di Prodi che sarebbe cresciuto nel Durante dopodiché al quarto se fosse andato avanti questo progetto si presentava un Prodi con 250 300 voti e era molto difficile che il partito democratico nel suo complesso non lo votasse e li facesse il 101 quindi Renzi avrebbe subito un presidente indicato dai suoi avversari ecco allora l'incontro c'è stato e i dissidenti chiamiamoli così hanno detto perché lui gli ha domandato voi chi vorreste e allora gli hanno detto o Prodi o Mattarella e lui gli ha detto sempre secondo questa versione avete altri nomi oltre questi due no solo questi due allora lui ha scelto Mattarella quindi ha scelto un nome fatto dalla minoranza no lui ce l'aveva già in mente ok però coincideva con quello ma c'erano un altro paio di nomi in ballottaggio ecco qui a Di Martedì la Bonafè ha detto guardate che la minoranza del PD insieme a Berlusconi portavano Giuliano Amato lei ci crede che ha questo nome? assolutamente no non è vero non è mai stato un nome? no senta lei dice Mattarella era uno dei nomi che Renzi voleva sì ora le faccio vedere dei cartelli di come Renzi ha in passato trattato gli esponenti politici della generazione di Mattarella i rottamati no guardi allora cartello 8 su D'Alema Veltroni e Bindi cosa ha detto? in questi anni avete fatto molto per il paese ma adesso anche basta su Bindi sta in Parlamento da prima della caduta del muro di Berlino Veltroni e Franceschini il primo era il disastro il secondo il vice disastro poi c'è il cartello successivo Marini con Franco Marini candidato alla presidenza della Repubblica due anni fa fu durissimo un uomo del 99 ma del 99 del secolo scorso la finocchiaro la ricordiamo per la spesa che fece all'Ikea con la scorta Enrico Letta via Letta se vogliamo uscire dalla palude perché questo atteggiamento così sprezzante verso gli esponenti politici del passato perché questa volta Mattarella si è salvato? è diverso lui o è diverso l'atteggiamento di Renzi? o è diverso il ruolo per cui concorrevano? dunque Renzi è una persona molto valida che ha fatto carriera nel durante una carriera molto veloce perché lui è stato sindaco di Firenze questo l'unico incarico precedente non ricordo se è stato pure alla provincia presidente della provincia presidente della provincia e poi di Firenze non è un cursus una carriera amministrativa non proprio politica ecco allora l'apprendistato di Renzi comincia quando lui che evidentemente aveva una passione politica dentro di sé comincia a fare apprendistato presentandosi alle primarie contro Berlusconi e perdendole contro Berzani contro Berzani scusa cominciamo per B no contro Berlusconi bisogna bisogna vederlo ancora per atteguare l'errore con più allora lì dopo la sconfitta lui ha un comportamento perfetto è un apprendistato cioè lui si schiera con Berzani va alle riunioni fa l'uomo di partito fa l'uomo di partito ma non per vendicarsi dopo di che alla seconda elezione delle primarie che avviene mi pare un anno dopo con un Berzani molto ammaccato lui stravince ecco e diventa segretario del partito come segretario del partito è ancora molto come dire libertino intellettualmente parlando ecco perché lui per fortuna è il figlio buono di Berlusconi cioè su quello non cede non ha cedimenti ma quello che quello che lo distingue dal Berlusconi è che lui perlomeno per quanto se ne sa il bunga bunga non l'ha mai fatto e credo che mai lo farà quindi questo è già una garanzia è già un passo avanti però faceva queste siccome la sua parola era di rotta mare a questi qui li prendeva tutti in giro ecco salvo l'ultimo che io ho notato qui Enrico Letta ha detto dobbiamo uscire alla paluda è un concetto politico con gli altri ha cambiato posizione ora li tratta bene la Finocchiaro era potenzialmente uno dei candidati così pure Franceschini Veltroni gli avrebbe dato ombra perché è un altro che piace alla gente che sa gestire il proprio ruolo è un altro che ha una cultura e insomma ha fatto dei bellissimi film io ho visto l'ultimo che andrà in scena il 23 aprile sui bambini che è un capolavoro quindi ha altre chiavi di comunicazione non è un politico non perché avrebbe dato addosso a Renzi ma perché è una figura giovane di anni quindi secondo lei è una maturazione di Renzi è più consapevole del proprio ruolo e può permettersi di convivere con le figure del passato sì salvo Letta che ancora gli fa un po' no no sono tutte e due insomma sono in competizione volendo non è in competizione Letta ormai non è in competizione con Renzi ma è in competizione che è Renzi oggi non c'è nessuno senta lei sa i prossimi giorni cartello 7 il dibattito politico sarà molto centrato dal decreto fiscale i reati fiscali c'è la soglia di non punibilità di cui si discute se l'imposta evasa è inferiore o pari al 3% dell'imponibile o dell'iva dichiarata frodo e evasione fiscali non sono più punibili penalmente scattano solo sanzioni amministrative secondo alcuni osservatori questo implicherebbe che Silvio Berlusconi può rientrare prima di quanto non imponesse la legge Severino a far politica attiva secondo lei passerà questo decreto è merce di scambio politica tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi o no? è difficilissimo fare previsioni su questo io ho seguito quest'affare perché ieri sera ne ha parlato dalla Gruber a mezz'ora come si chiama? 8 e mezzo 8 e mezzo sì mezz'ora non si ha 8 e mezzo allora io ho seguito del Rio che è stato interrogato dalla Gruber proprio su questo sì questa sera ne ha parlato anche la ministra Boschi da noi sì insomma ah ecco allora ma è molto è una carta molto coperta loro potrebbero anche dire che Berlusconi non nel decreto non ha non è una frode sì non è una frode ah dal punto di vista tecnico dice lei sì dal punto di vista tecnico non è una frode e quindi il 3% ce l'ha come tutti gli altri ecco se non è una frode oppure non dirlo ma io non credo che ribassano il 3% del Rio l'ha detto comunque lo possono abbassare fino all'1 e qualcosa per coprire con nessuna intenzione come ha detto del Rio ha detto dobbiamo chiarire un qualche punto e quello in particolare l'ha colpita che Berlusconi fosse al Quirinale oggi all'insediamento del presidente Mattarella no perché Berlusconi lì il Quirinale il Quirinale non l'aula il Quirinale al Quirinale ad un ad un presidente della Repubblica nuovo è già eletto ma non ancora insediato perché lui è insediato è stato insediato stamattina quando ha giurato certo quello è il momento dell'insediamento non prima prima è uno eletto ma c'è un tempo tecnico allora lui ha invitato il cerimoniale prevede il cerimoniale prevede che vadano a salutare il nuovo presidente al Quirinale gli ex presidenti del Consiglio e gli ex leader segretari dei partiti quindi formalmente allora formalmente lui è perfettamente c'ha tutte e due le cariche ha avuto tutte e due le cariche una ce l'ha ancora quella di capo di un partito ma soprattutto c'ha quella di ex premier e quindi molti sostengono che Mattarella non è intervenuto perché il cerimoniale non dipendeva ancora da lui quindi lui ecco però evidentemente sapeva che lo spazio che lo spazio c'era non sarebbe stato un cerchio senta direttore vi faccio vedere la foto di Angelino Alfano perché tutta quella verve di disprezzo di liquidazione con cui aveva trattato i precedenti i precedenti avversari politici Matteo Renzi sembra averla adesso riservata a NCD non tratteremo con i cespugli chi sta male si lecchi le ferite che periodo apre per Angelino Alfano e per il governo Renzi con queste battute ma senta Angelino Alfano mi riesce difficile pensare dico una cosa sgradevole gli chiedo scusa anticipatamente ma non vedo un avvenire politico perché ha sbagliato posizione o perché non ha il carattere scusate e voi applaudite a una crudeltà mentale non va bene questo non applaudite allora allora quando un partito prende pochi voti poi si sente anche negli applausi però magari ha ragione lui ecco questo va detto la verità non è necessariamente democratica magari lui si ha ragione e qua non l'ha capito nessuno però fatto sta che stiamo io dico che le vicende insomma lui ha pochi voti ha pochi elettori ci avrà oscilla tra il 3 e il 4% ecco e non mi pare che abbia le carte e neanche il temperamento non è un trascinatore di folle ecco i trascinatori di folle hanno un altro un altro atteggiamento ecco perfino Nerone prima dell'incendio attraeva le folle Eugenio Scalfari grazie per essere stato con noi grazie mille allora come ci muoviamo adesso manca la parte economica manca il capire quale sarà la prospettiva entro cui si muoverà il governo Renzi e di meglio che chiamare il responsabile esecutivo del fondo monetario per l'Italia e per la Grecia non abbiamo immaginato considerate che Carlo Cottarelli che era anche quello che ha lasciato un rapporto sulla spending review che è scomparso nessuno sa più dove si trova se chiami alla presidenza del consiglio ti dicono Cottarelli lavorava all'economia se chiami all'economia ti dicono no lavorava alla presidenza del consiglio che fino a fatto la spending review ce lo sta per venire a dire Carlo Cottarelli prima Felicia Mammone ci dice come spendono gli italiani facciamo i conti in tasca agli italiani in tema di ricchezza la Sardegna è la più piccola qui i contribuenti tra conti correnti depositi fondi e titoli hanno circa 13.764 euro pro capite paperon de paperoni i lombardi con 41.570 euro gli abitanti della Lombardia non amano però rinunciare alle vacanze solo il 38,5% di loro non si è mai concesso una pausa alto è invece lo spirito di sacrificio dei calabresi volenti o nolenti ben l'84,4% di loro nel 2013 ha detto no alle ferie restando sul fronte dei consumi vediamo la richiesta dei finanziamenti al primo posto gli Umbri che si indebitano ad esempio per comprare il frigorifero la televisione e l'automobile chiedendo in media 5.490 euro poco propensi al pagherò sono invece i siciliani ultimi con 3.553 euro la Sicilia si fa grande invece per il numero di auto a famiglia il 55,5% ne possiede almeno una mentre la presenza delle quattro ruote diminuisce sensibilmente in Molise all'ultimo posto con il 39,3% le marche si ingrandiscono perché il 40,3% delle famiglie può permettersi due o più macchine la Liguria invece si fa piccola solo il 16,2% dei cittadini possiede più di due auto confermando forse un po' la nomea di popolo parsimonioso diamo il bentornato a Carlo Cottarelli buonasera benvenuto buonasera Carlo Cottarelli già commissario alla spending review adesso è tornato a Washington che ce l'aveva dato in prestito dal fondo monetario parla mai dell'Italia a Washington con i suoi colleghi che gli dice sono stato un anno è stata una cosa terribile no è stata un'esperienza molto interessante spero che sia servita a qualcosa ha più sentito Renzi da quando è tornato al fondo monetario no io la mia controparte è il ministro Paduan interagisco con lui con lui parla ogni tanto si sente spesso lo sa che è scoppiato un giallo sulla sua presenza in Italia sono state rimosse le tracce ci sono stati giornalisti esperti che hanno chiesto innanzitutto il suo lavoro la spending review nessuno ce l'ha se si telefona al ministero dell'economia dicono guardate Cottarelli lavorava alla presenza del consiglio se si chiama la presenza del consiglio dicono no guardate lavorava all'economia il lavoro non lo ha nessuno ma lei lo ha fatto allora facciamo un po' di chiarezza le slide della spending review sono il documento principale in cui sono state fatte le proposte le 72 slide dietro a queste c'erano 72 slide su come risparmiare su come riorganizzare c'erano le proposte dietro a queste c'erano dei calcoli fatti delle tabelle numeri a punti abbastanza brevi le cose che non sono state ancora pubblicate sono i famosi dossier preparati fondamentalmente dai gruppi lavoro che lavoravano in parallelo al mio gruppo ma la maggior parte delle proposte sono derivate dal lavoro del mio gruppo che sono finite nelle slide quindi non vorrei deludere le aspettative io credo che questi documenti saranno pubblicati abbastanza presto però non aspettate molto ma lei li ha certo che ce li ha perché non li dà lei perché io sono la mia controparte diciamo io sono riporto al governo la decisione di pubblicare certi documenti ma che impressione ha lei ma credo che come lei dico credo che saranno pubblicati mi hanno detto che stanno lavorando per metterli insieme c'è ci sono da parecchio però ci lavorano non è che non vogliono che escano questi documenti ma non credo sinceramente che credo che abbia una cosa più importante da fare che pubblicare una cosa importante da fare sarebbe ad esempio sarebbe applicarli questi documenti lei ha visto qualcosa di fatto della sua spending review allora posso farle l'elenco come dico non tanto di questi documenti ma delle famose slides la riforma degli acquisti dei beni e servizi si sta andando verso i 35 soggetti che i gradori che sostituiranno i 34.000 centri di acquisto sono stati approvati credo un paio di settimane fa due importanti decreti dal Presidente del Consiglio per porre in atto la riforma ci sono stati nella legge di stabilità dell'Italia trasferimenti alle imprese pure raccomandati dalle spending review trasferimenti alle ferrovie sono stati pure aggiustati verso il basso c'è un insieme di piccoli provvedimenti non irrilevanti le auto blu il decreto è stato emanato finalmente a dicembre le 5 scuole di pubblica amministrazione sono state fuse in una scuola di pubblica amministrazione la misura sulla mobilità del pubblico impiego è stata presa nel decreto sulla riforma della pubblica amministrazione posso andare avanti per parecchio ma sono tante le cose che sono state fatte al tempo stesso ci sono state delle decisioni politiche di non fare altre cose però come dico il tecnico fa proposte poi la politica decide ha visto che stanno tornando a parlare di interventi sulle pensioni no questo non lo sapevo perché c'è ancora il problema degli esodati e poi c'è un problema di struttura generale di questo sistema che non garantisce la pensione dei giovani che lavorano in questo momento lei aveva proposto degli interventi sulle pensioni certo aveva proposto degli interventi questi non sono stati applicati le pensioni sono circa 300 miliardi di spesa pubblica il che vuol dire quasi 40% della spesa primaria dello Stato cioè la spesa degli interessi era un'area che non potevo trascurare ovviamente e poi ci sono decisioni che devono essere prese a livello politico non è che la spesa non è stata tagliata nella legge di stabilità del 2015 ci sono tagli di spesa hanno deciso di fare altre cose hanno deciso soprattutto di delegarli alle regioni in fondamentale non tutto da quello che lei segue da Washington le regioni stanno operando oppure ci troveremo a dover tagliare beni e servizi magari dei cittadini dunque credo che l'accordo la legge di stabilità prevedeva che l'accordo con le regioni sarebbe stato sigliato entro la fine di gennaio non è stato ancora fatto ma credo sia molto imminente quindi sapremo penso nei prossimi giorni perché è un accordo pubblico che cosa avrà fatto cosa faranno le regioni per dare il loro contributo che mi sembra forse di 4 miliardi alla manovra per il 2015 si ricorda quanto dibattito favorevole sollevò la sua ipotesi di abolire le municipalizzate erano 8 mila mi pare su cui intervenire 8 mila o più su quello non si è fatto nulla vero? no quello è finito nel disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione è previsto che è in Parlamento credo che la discussione del disegno di legge delega sia iniziata oggi quindi non è che il governo l'ha dimenticato hanno usato questo strumento certo forse si poteva andare più rapidamente però la riforma non è stata dimenticata poi c'è sempre la paura delle famose clausole di salvaguardia che vengono messe alla fine di ogni manovra finanziaria per dare delle immagini semplici e dice se tutto quello che facciamo poi non ha effetti possono aumentare l'IVA la CISE stanno per scattare forse quelle del passato io credo che per il 2015 non ci sia bisogno per il 2016 ci sarà la necessità di trovare ulteriori risparmi di spesa per evitare che scattino le clausole per il 2016 il che vuol dire che nei prossimi mesi il lavoro sulla revisione della spesa dovrà continuare Carlo Cottarelli nostro ospite di martedì grazie davvero grazie a te e ci vediamo martedì grazie a te